Grazie Dimmi gli amici che ti ha messo al centro di un sentimento Motivi, motivi, motivi familiari Motivi, motivi, motivi familiari Motivi familiari Eccoci qua, ben trovati, buona serata a tutti Buon venerdì ma anche buon San Silvestro Allora grazie perché sappiamo essere in tanti Voi davanti al televisore questa sera Per seguire la nostra diretta che traghetterà questo stranissimo 2021 A speriamo un migliore 2022 Certo è però che dobbiamo ringraziare ovviamente tutta TR Media, TRC Perché produciamo interamente questa serata E soprattutto la cosa che ci ha fatto molto piacere Che è un programma che chiamano di successo Che è motivi familiari Diventa anche per l'emittente Quello che è il programma Che in qualche modo diventa la punta Poi che fa finire l'anno E ne fa iniziare uno nuovo Speriamo che sia di buon auspicio Però credetemi Per motivi familiari E io mi sento in famiglia Saluto tutti voi a casa E so che in tanti ci state seguendo Facendo il vostro cenone Ma io non posso traghettare l'anno Se non sono con i due miei fratelli I due miei amici Alberto Bertoli e Marco Lino Bue Ciao Andrea Ciao Alberto Vestiti benissimo Bravi eleganti Tutti in giacca stasera Mamma mia come siete eleganti Ma sai che eravamo No ve lo dico Lo dico una cosa veloce Eravamo in saletta prove Qui alla televisione C'erano tutti gli altri Che stavano andando E pensavano che questa sera Ci fosse in diretta L'ultimo dell'anno Con i neri per caso In realtà invece no Ma perché il nero Lo svelo subito Allora io a ogni cambio pubblicitario A ogni pubblicità Metrò una t-shirt diversa No C'è una cucina là in camerino Guarda sei più bello che mai Sì più o meno Quindi a ogni pubblicità Devo togliere il microfono Ma ne ho preparate delle bellissime E quindi mi vedrete Con 8-9 cambi diversi Questa sera Perfetto E' un pezzo della musica Esatto ma tra l'altro In realtà lo facciamo io e Alberto Che mettiamo giusto questo vestito Io e la musica Ero un po' ci assomigliamo Sì però io e Alberto Abbiamo questo vestito Giusto per l'ultimo dell'anno Cioè lo mettiamo sempre Tutte le volte Allora intanto vi faccio i complimenti Buon viaggio In questa bella diretta Che faremo insieme E avete capito Anche nella promo E quant'altro Insomma voi siete i protagonisti E' chiaro che esistono Diversi programmi televisivi Che in qualche modo Vi fanno compagnia Durante la serata Dell'ultimo dell'anno Però grazie per aver scelto noi Ma voi sarete i protagonisti E noi tenteremo di premiarvi Ma soprattutto voi Ci dovrete dare una mano Allora innanzitutto Vedete in alto A destra Del vostro bellissimo schermo piatto C'è un numero di Whatsapp Ed SMS Serve per i vostri auguri I vostri saluti Fateci sentire Il vostro calore Di fronte al televisore Durante il vostro cenone Il numero è 3703195195 Ma questo Questa sera Ha un valore Assoluto Ed è quello Noi vogliamo vedere Le vostre foto Del vostro cenone Non importa Se siete solamente Con il vostro gatto O il vostro cane Se siete con la famiglia Con i parenti Con gli amici Fateci vedere Come state festeggiando Insieme a noi Il vostro capodanno Ma questa sera Vi è una grande novità Possiamo ricevere La vostra telefonata in diretta E questo è veramente Una super figata Il numero è quello che vedete In alto Vedete già I miei due amici Aspettano le vostre telefonate Così ci facciamo gli auguri Dal vivo 059-886-9912 Cosa c'è? Attenzione Mancano tre minuti La pianta Ma c'è una vita Allora Andrea Sì Allora per me Non so te Alberto È il primo capodanno Che faccio in diretta tv Di solito ero sui palchi A suonare Nelle piazze Quest'anno Con tutta la situazione Che c'è Sono contentissimo E mi hai già scritto In tantissimi amici Musicisti Attori Che ci guarderanno Stasera Quindi dobbiamo fare Una bella figura Hai ragione Anzi chiediamo a questi amici Se ci mandano gli auguri In diretta Così Facciamo una bella serata Insieme E la facciamo tutti insieme Siamo vicini ovviamente Anche a tutti coloro Che magari avevano Una serata in piazza Questa sera Vero Alberto Che non l'hanno potuta fare Per le normative Ma noi ci auguriamo sempre Che arrivino I tempi migliori Insomma I tempi Quelli che c'è Un nostro amico Qua di Carpi Proprio a pochi Paolo Belli Che lo salutiamo Che è il teatro Qua Carpi Ti salutiamo Paolo Penso che stia Per iniziare il concerto A minuti Che voi siate suonanti O che non siate suonati L'importante è che Questa sera Vi divertiate Perché Lo iniziamo tutti quanti insieme Partiamo con la telefonata Così La regia si dire Chissà che Ho già paura Ma lei Pronto Pronto Ciao Come ti chiami Ciao Sono Giancarlo da Milano Giancarlo da Milano Wow E ci stai seguendo Sul web o su Sky No Tramite web Sul pc Ecco Ottimo Ma io Forse ho capito chi sei Tu sei fan di noi tre Perché Generalmente Ti ho visto Tutti i nostri Spettacoli Sì esatto Ci siamo attuati Un paio di volte qua Con Marco In provincia di Milano E ci vediamo sempre Con Alberto Bertoli Con Alberto Bertoli Ai suoi concerti Senti Allora Noi ti facciamo Di grandi auguri Quanti siete a festeggiare Questa sera a casa? No no Siamo solo io Mia moglie Mio figlio e basta E beh Insomma Ottimo Per motivi familiari Siete a casa Eh sì Ma la cosa La cosa interessante è Cosa avete mangiato? Ma Il pesce ecco Prima il pesce Matta Pesce generico La carpa Ti sei magnato Per l'ultimo Oh e Giancarlo Saluta tanto tua moglie Dai un abbraccio A tuo figlio Seguici in questa Grande diretta E mi raccomando Alza il volume Perché ci sarà Tanta musica Questa sera Ok Un forte abbraccio Un forte abbraccio A Alberto Un abbraccio anche te Giancarlo Un saluto a Marco Ciao Giancarlo Ciao Giancarlo Giancarlo Ti saluto mio fratello E io Mi saluto sempre bravissimo Ciao Giancarlo Da Milano A fine telefonata Grande Allora Dai Facciamo un po' di musica Dai che voglio partire Telefonata veloce Telefonata veloce Hai ragione Telefonata veloce Pronto Pronto Sei in diretta Ciao Pronto Ha telefonato la carpa Che ovviamente Non parlo Per una serie di motivi Pronto Vabbè facciamo così Molliamo la telefonata Ma facciamo la musica Poi la riprendiamo Perché stasera Immagino che sarà Veramente tanto Tanto caos Tra la telefonata E so che siete in tantissimi Cerchiamo di superare Il mezzo milione Di contatti questa sera Quindi saluto Tutti coloro Che ci seguono Sul canale 11 Sul canale 15 Emilia Romagna Sul canale nazionale Sky 518 E tutti gli amici Del web Di www Modena Indiretta.it Volete sapere Come i miei amici Vogliono introdurre La serata di San Silvestro Beh ve lo dico io Senti che botta Perché la serata Parte così Go Johnny go 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 Johnny go 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 Johnny, go, go, go Go Johnny, go, go Johnny be good He used to carry his guitar and he got his sock He was sleeping at the tree by the railroad track Oh, and Johnny was he sitting in that shot Strumming with the rhythm of the driver made With people piecing by so he could stop and say Oh my, little country boy, could play Go, go, go Johnny, go, go Go Johnny, go, go, go Go Johnny, go, go Go Johnny, go, go Johnny be good Come on, man Go, go Go Johnny, go, go Go Johnny, go, go Go Johnny, go, go Go Johnny, go, go Johnny be good Eeeh, una lunga notte, bravi complimenti Allora c'è un sacco di gente che ci ha mandato dei video auguri che sicuramente conoscete Ne abbiamo uno molto illustre che apre questa carrellata Cominciano a mandare gli auguri gli amici Assolutamente, per noi è un grande onore Guardate chi ci manda il video auguri e soprattutto che cosa ci dice Eccolo qua Cari Andrea, Alberto e Marco, ma soprattutto cari telespettatori Auguro a tutti voi un nuovo anno che ci riporti finalmente solo sorrisi E soprattutto che ci si possa tornare anche ad abbracciare Siamo qui ancora una volta dopo quasi due anni in prima fila A combattere questa pesantissima quarta ondata Ma confidiamo che grazie soprattutto ai vaccini e alla protezione che ci danno Di potercela fare Vogliamo tornare alle abitudini di prima Anche perché se terremo a bada la pandemia Le previsioni di crescita economica e soprattutto di poter trovare un lavoro Per chi l'ha perduto o chi non ce l'ha Sono positive E questa è la cosa che più ci interessa La salute e la tutela della salute delle persone E la possibilità che le persone possano lavorare Un grande augurio a tutti voi Ai vostri cari, alle vostre famiglie E fatemi ringraziare in un momento come questo Coloro che da quasi due anni In particolare tutti i professionisti della nostra sanità Sono in priva linea Per tutelare la nostra salute e le nostre vite Grazie, buon anno a tutti E forza Emilia Romagna Grazie Stefano Stefano Bollecini, Presidente della Regione Emilia Romagna Il nostro Mattarella Esatto, saranno in tanti a mandarci un sacco di auguri Devo dire la verità In tanti mandano foto Allora io chiederei alla regia di fare un antipasto Mandatemi un po' di foto Posso dire una cosa? Mi fa molto piacere vedere Stefano A parte che io ovviamente non debole per lui Ma la cosa che mi fa molto più piacere è che Abbiamo fatto un concerto nel 2019 Proprio a casa sua, in un teatro a casa sua E lui era impegnato in una conferenza Ma nel pubblico Io non li conoscevo Insomma, ha finito il concerto Vieni fuori che devi firmare le autografie, foto A un certo punto fa Ciao, io sono il papà di Stefano C'erano i genitori Sono tutti i genitori E beh, d'altronde per motivi familiari Esatto, tipo una famiglia Allora, fatemi vedere un po' di foto che arrivano Eh, bravo! Allora mi dà un grande assi Il signoletto! E dobbiamo salutare Carmine Damontese Volevo dire Carmine, tipico nome dell'Appennino Modenese Certo, certo Poi ancora, fatemi vedere un po' di foto Andate, andate, andate Proprio a nastro che così le raccontiamo Ne stanno arrivando veramente tante Voi avete capito come funziona il gioco? No, io mi sono visto in telecamera e mi è da ballare È incredibile Cioè, appena mi vedo sullo schermo A volte succede Eccolo qua Bello questo Hai capito? Tanti auguri C'è una torre insomma particolarmente famosa Tanti auguri a tutti Noi rimandiamo ovviamente gli auguri E soprattutto devo dire che in tanti stanno mandando foto al 3703195195 Che è il numero ovviamente che vedete qua sopra Ah, mi raccomando A noi piacerebbe tanto ricevere le telefonate Chiaramente di quello che è Ehi! Ehi! Mamma mia! Ma questa ha degli anni Quanti anni ha? Ah, c'ha 22 anni Questa è stata fatta per motivi familiari Comunque, direi Allora, diamo altre foto Mandate, mandate, mandate proprio velocemente Perché se ne sono tante già da adesso Eccolo qua Eccolo qua Uno dei primi cenoni Oh, meraviglia sta roba Ma chi è quello là dietro? Nella foto, scusate Ce n'è una... Non so se... No, 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 ti vedo Scusate Allora, scusate Quello dietro è una foto È un'apparizione che vediamo solo noi e loro no Oppure è il risultato di un terzo brindisi e lui è già così Infatti secondo me è l'anima della bottiglia che si sono bevute Esattamente Inizia già ad essere il bianco e nero il quinto della festa Molto bene Senti Allora Andrea mi ha scritto Jerry, eh? Sì, cosa dice? Mi dice che speriamo che il 2022 non sia la variante del 2021 Bravo Hai ragione che c'è Giustamente Altre due ragazze abbiamo visto Complimenti Noi manderemo le foto Vi chiediamo scusa se non le commenteremo tutte Ma voi mandatecele che noi facciamo vedere Allora, cioè al volo 1-9-8-7-6 No, ma no, ma no, ma no Andrea Tutti i miei amici sono a casa stasera, ci stanno guardando tutti No, ma è una voglia Non esiste forse Non c'è mai stato un capodanno così? Stai dicendo che praticamente stanno tirando dei cancheri No, no, secondo me dobbiamo essere bravi a dire le parole per bene, a fare le canzoni per bene, perché sono tutti a casa a guardarci questa sera. E tra l'altro proprio per questo sono molto contento perché mi stanno dicendo che un nostro amico, ma un amico proprio amico, amico di tutti, amico vostro e tanto amico nostro, anzi vorrei esagerare, un nostro amico vicino si ha mandato un video augurio adesso. Guardate. Sono qui con il mio segretario, faccio gli auguri per motivi familiari ai tre conduttori, bravo Cicchi, buon anno anche a te e vorrei augurare a tutti gli amici di Chiacchera, di TRC e di con un amico vicino il meglio, ma non il meglio, meglio, il meglio del meglio del meglio e ci vediamo presto. No, vabbè, grazie Andrea, il mio amico vicino, voglio dire una cosa io ad Andrea? Vai, tanto buon anno, dimmi, vai, vai, vai. Andrea, io lo sai la stima che abbiamo sempre avuto in famiglia, mio padre mi ha iniziato a tutti i tuoi dischi, quindi spero di vederti qua tra noi, insieme a noi, in diretta tutti e quattro insieme, sarebbe bellissimo. Bravo, bravo Alberto. Non vediamo l'ora Andrea, poi Marco ha fatto tante citazioni nel libro, bravo. Allora, c'è una telefonata al volo, puoi fare una foto e andiamo a pubblicità. Pronto? C'è una telefonata al volo? Pronto? Pronto? Allora, mi chiamo Edinson Valcati. Mi chiamo Edinson Valcati. Mi chiamo il volume del televisore. Abbassa il televisore, ci parliamo solo al telefono, abbassa il volume del televisore. Allora. Vai. Allora, mi chiamo Edinson Valcati. Sì. Posso chiedere una canzone? Certo, vai. Chiedo fuori tempo, chiedo fuori tempo dei rex scritta da Liga 2. Ok, la canzone fuori tempo. Siccome siamo nei periodi dei saldi, ti va bene o la mia banda suona in rock? Non sa che la va nessuno, però prima adesso. Quanti blocchi di balza, lo sai che non va, poi e poi, il cuore che batteva e poi. Me la ricordo un pelo così, eh? Sei fuori tempo, sei fuori tempo, sei fuori tempo. Oh, un accenno, dai, un accenno. Ehi, ehi. Scusa, ma quanti anni hai? Ma, ehi. Scusa, no, perché mi hai detto di te, buona metà. Sì. Otto. Otto anni. Sì, con chi sei a casa? Sì. Sì, ok. Con mamma e papà. E allora noi ti mandiamo un applauso in diretta qui da Motivi Familiari. Ciao. Oh, mi dà un po' di roccia, dai, ormai siete una banda di fatto. Sei tu. Siamo una banda, noi siamo in due, dai, siamo in due. Cioè, ci può essere una banda anche in due? Sì. Proviamoci, dai. Dai, che ci proviamo. Parti tu, Alberto, parto io. Ma, cosa dici? Dammi tempo, dai. Proviamo a partire io. Va bene. Però, ti seguo, no? Che il giro lo fai te, se no sai io. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che tra noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. È una musica che speranza, è una musica che pazienza, è come un treno che è passato con un carico di frutta. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock. Per chi l'ha visto e per chi non c'era. Per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatemi. Non ancora. E non fermateci. Per favore, no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da niente quando il trasformismo è diventato un'esigenza. E ci vedrete in crinoline, come brutte ballerine. Ci vedrete danzare, come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera, con la macchina bloccata. Ma lui ce l'ha frappata, la musica è passata. Ed è un rock bambino, soltanto un po' latino. Viaggio senza passaporto, meno dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta. Ma in fondo viene a dirti che la sua anima non è morta. E non svegliatevi. Non ancora. E non fermateci. No, no. Per favore, no. Mamma mia. Allora, ci abbiamo una banda rock. Siete una banda rock. Dobbiamo salutare Patti, che dice siete assolutamente fulminati. Buon anno, grazie. Poi, se non vado errato... Ma io voglio capire, ma fulminati può essere un complimento o è una roba... A volte è anche un cognome. Fulminati il cognome. Hai ragione. Hai ragione. Allora, c'è Patti, no, anzi Raffa, Raffa, che ci manda una foto. Cioè, Raffa è davanti al televisore, ma si è messa di spalle al televisore e ha fatto una foto per far vedere che sta facendo Capodanno con noi. Non so se abbiamo... Eccola qua. Raffa, Raffa da Bologna. E ancora, foto dopo. Buon anno a tutti. Questa è una foto che piace tanto a noi tre, perché c'è un brindisi anzitempo e quindi li salutiamo. Complimenti. Questo è Castellini, mi sa. Però anche tutti fanno il brindisi. Noi siamo qua in diretta e non lo possiamo ancora fare. In realtà, devo dire che noi abbiamo un grande brindisi che sto per annunciare. Vorrei spiegare una cosa. Questa sera faremo una cosa molto particolare. Bravo. Quella che si chiama la Bav. Cioè, la Dada a scuola e noi facciamo la Bav. Tu dopo, dopo, dopo. Cos'è la Bav? La Bav è, insomma, il bere a distanza. Tutti vicini, però. Bravo, tutti vicini. Oh, allora, caccia alla Volpe. C'è anche lei stasera, buon anno, da Eva, Lino e Letizia e compagni. E c'è la Volpe. Vabbè, ci va andato una Volpe. L'ultimo dell'anno, ma magari imbalsamata. C'è una telefonata, no, Andrea? C'è una telefonata. Forse è la Volpe che ha chiamato. Pronto! Pronto! Chi è? Pronto? Ciao, sei in diretta. Come ti chiami? Andrea! Che è un nome più bello del mondo. Da dove chiami? Andrea, io sono Gianni, Gianni di Lina Marescia. Eh? Da? Da dove chiami? Da Lecce, Gianni di Lina Marescia. No! Ciao, sono la mia! Grandi... No, vabbè, ragazzi. No, guarda qua, grande amico, Gianni Centonze. Mi ricorda anche... Grandissimo! Gianni Centonze! Che bello che ci stai guardando. No, Andrea, diciamolo, no? Sì. Gianni è un grande amico, quest'estate siamo andati a lui, abbiamo fatto la presentazione di saluto a me e tuo fratello. Già. Lui ci ha accolto con tutte le prelibatezze, ovviamente, del Salento. L'accoglienza salentina che è stata clamorosa, cioè, è quasi meglio di quella migliore. E ti dirò di più, abbiamo iniziato lo spettacolo, questo uomo si è inventato una cosa assurda, invece di farci uscire da dietro al palco, ci ha fatto uscire da una diana due cavalli di fianco al palco. C'è rariglioso, vero? Io mi ricordo questa cosa, la porterò nel cuore. Senti, in quanti siete a casa a festeggiare? No, siamo in pochi, siamo in quattro più una bambina, quindi siamo... Sai, le motivazioni di Covid ci impongono di stare in pochi, insomma, ecco. Però sono due amici meravigliosi, Maurizio e Marta, oltre a Silvana e alla splendida luna che è una vicina, una ragazzina meravigliosa. Allora, guarda, noi ti facciamo, ti diamo un grande abbraccio, ma soprattutto ci fa piacere che anche dalla Puglia, ovviamente abbiamo... Dal Salento, che è proprio la punta, abbiamo dei punti d'ascolto. E quindi noi ti facciamo dei grandi auguri di un grandissimo 2022. Ciao, buona serata! 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 E a piedi di la madre che ci state! Alla grande, alla grande! Allora, potevo dire... Aspetta, mi sono dimenticato una cosa. Con lui potevo dire anche salutevi tua sorella. Che c'era anche la sorella, perché c'era lì che c'era la sorella. Non avremmo il capito della sorella, sai che... No, è che c'è, c'era lì che io ho detto... Marco, saluto il tuo fratello Luciano! No, ma che... Ciao, te lo saluto! Sì, allora, quindi magari gli faccio gli auguri anche stavolta. Alberto, abbiamo delle altre foto da vedere veramente incredibili. Mandatele a Randello, che... A Randello? Poi io le commento perché... Attenzione! Mancano tre minuti a mezzanotte! Rimettetegli all'oggi! Preparatelo su parte! Non è che dice delle cose non veri. Andrea, ce l'abbiamo noi il countdown? No, abbiamo... 10! 9! Ma come è adesso? Non è adesso, ma infatti c'è ragione. Ma come è bello farlo ogni tanto? No, ce l'abbiamo noi un countdown? No, ce l'abbiamo noi un countdown? Attenzione, fermo a tutto. No, ma veramente? C'è la pausa paglia, la pausa paglia qua. No, ragazzi, questo... Io vorrei essere lì. Io vorrei essere lì. Però, scusate, posso dire una cosa? Cioè, vedo di fianco fuma, ma il capotavolo è un quadro, è un trampleo... Ma infatti è un entità... Ma questo mi sembra che ha i capelli blu? Mi sembra un medium di quelli che... Esatto, cosa c'è? C'è una luce sfumata. Ma io non mi sembra un medium, mi sembra... No, in effetti è vero, mandateci un'altra di queste foto qua che sono... C'è qualcuno di voi che fuma? Andate avanti, vediamone altre che ne stanno arrivando. Oh! Ecco, le crescentine! Bravo, vedi Alberto che è... Bravo, crescentine. Festa del Cotecone, Cotecone. Cotecone, esatto. Il Cotecone era una roba che diceva, non sta Frenchy che coordina. Peraltro, insomma, stanno arrivando... Ehi, che bravo, che bella questa. E' un campo d'altro, di fianco al Camino. Col Camino, col Camino. Ma il Camino sembra spento. No, ma forse... La libreria, manca un libro però in quella... In quella libreria. Ti saluto il mio fratello. Ti saluto il mio fratello, hai ragione. Ok, allora ritorniamo in studio. Siamo pronti per... Pena, novi! Otto! A fermi tutti! C'è un super amico famoso in tutto il mondo che sembra che ci voglia fare gli auguri di buon anno. Mi dicono questa cosa, vediamo. Ciao a tutti. Buon anno. Buon anno con tutto il cuore. Buon anno a te, Alberto, Andrea, Marco, a tutti gli amici che stanno seguendo TRC. Un anno, spero, di grande speranza, di tanta salute, che ci siamo accorti essere davvero la cosa che più importa. È un anno di grandi progetti per tutti quanti. Vi abbraccio. Motivi, motivi, motivi familiari. Motivi, motivi familiari. E allora 22.01. Siamo in diretta dagli studi centrali di TRC per la grande notte di Capodanno con motivi familiari insieme ad Alberto Bertoli e a un rinnovato Marco Ligabue. Bravo, bravo. Jack Nicholson, Jack Nicholson, The Joker. The Joker. Allora, aspettiamoci... E poi quelle che per dopo, Andrea. Esatto, allora, aspettiamoci un cambio di dress code. Ogni volta che cambia la pubblicità, lui sparirà, voi non vedete qui dagli studi, e poi si cambia d'abito. Questa è una grande idea. Allora, stanno arrivando, io ve lo dico e noi vi ringraziamo tanto, siamo rimasti colpiti e anche presi in contropiede perché siamo già a centinaia di foto che ci avete mandato e tante telefonate, quindi incominciate di nuovo a riprendere la linea perché riprendiamo i centralini. Il numero è 059-886-9912. Sento i regi centralini che stanno squillando a manetta, quindi fate veloce, come dicono in Calabria... E sempre i vanno a marchi. Il centro di marchi, perciò hai ragione. Guardate, dietro c'è i cosi... Noi non vendiamo, esatto, ma non vendiamo niente. Se non buon umore e buona musica, ma continuate a mandare le foto del vostro cenone dell'ultimo dell'anno. Adesso in diretta, poi noi come avete capito lo facciamo vedere al 3703-195-195. Cosa dite? Guardiamo qualche foto, la commentiamo. Dai, vai, vai, dai. Sì, dai, dai, vediamo. No, scusa una cosa, però. Ringraziamo tanto Filippo, che ci ha mandato gli auguri. Grazie, grazie. Filippo, voglio dire una cosa, è uno dei più grandi artisti con cui ho suonato, e secondo me quest'anno dovrebbe avere una valutazione un pochino maggiore, perché mi è sembrato che l'anno scorso l'abbiano un pochino messo sotto tona, visto che secondo me è uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia. Hai ragione. È Emiliano Docco, è Emiliano Docco, quindi noi lo apprezziamo ancora di più per questo. Veramente bravo. Anzi, abbiamo una telefonata. Pronto! Sono Riccardo. Ciao Riccardo. Riccardo. Quanti anni hai? Otto. Da dove chiami? Da Modena. Grandissimo. Quanti siete a casa? Tre. È perché ho il Covid. No, mi dispiace. Vabbè, sei a casa, stai bene? Ma io sto bene già da un po'. Eh, vabbè, allora ti facciamo compagnia. Ma i tuoi invece come stanno? Stanno bene. E allora... E allora questo, guarda, ci scalda tanto il cuore. Senti, Ricchi, chi volevi salutare in diretta in tutta l'Emilia Romagna, addirittura in tutta Italia, su Sky? Andrea. Quale? Andrea Vaghi. Eh, sono io Andrea Vaghi. Andrea Vaghi. Sono io. Sono io, grazie. Io ricambio gli auguri. Come si chiamano i tuoi genitori? Cinzia V... E' Alessandro Cantini. Ok, ma hai avuto dei dubbi sul secondo nome? Cioè, è quello che è più frequentemente in campo? Non ho mai sul cognome. Ha avuto dei dubbi sul cognome. No, vabbè, che c'è? Senti, noi vi facciamo gli auguri di buon anno e guarda, ti faccio fare gli auguri da Ligabù e da Bertoli. Sei contento? Mi dici che cosa è? Che c'è un chitarrista. Ah, io sogno di diventare un chitarrista. Ah, sogno di diventare un chitarrista. Sì. Allora, guarda, la cosa è molto semplice, guarda, non è tanto difficile. Basta pigliare una chitarra e poi studiare come un pazzo. Se tu studi come un pazzo diventi un chitarrista. Più pazzo sei, più bravo diventi. A Babbo Natale cosa gli hai chiesto? Gli ha regalato... Una chitarra, ti ha regalato. Gli ha regalato una chitarra. Allora, facciamo così. Ti facciamo un applauso in diretta, vi salutiamo. Buon anno, ma vi facciamo vedere una cosa che fa Marco Ligabù e con la chitarra di un suo grande pezzo di successo. Sì, sì, dai. Questo è proprio una bella roba con la chitarra niente male. Sarò sempre vicino a chi esprime le sue idee senza giri di parole dice la sua verità che se fuori il mondo è strano il rimedio poi qual è? Non sarà mica stare in casa e uscire solo a far la spesa io non sto dicendo che sia facile viaggiare ma dal cielo cade solo qualche goccia un po' di neve buongiorno a tutti quanti a chi ha il sorriso pieno a chi pensa che c'è un sole anche dietro il temporale tanto vivi respirando solo l'aria che c'è intorno Siamo qui a fare il nostro tempo con la pioggia il sole e il vento Siamo qui a fare il nostro tempo con la pioggia il sole e il vento Sarò sempre vicino a chi non si piange addosso e anche nei problemi trova un'opportunità che se fuori il brutto tempo forse ci si ragnerà ma tanto ombrelli e asciugamani ce ne sono in quantità io non sto dicendo che la vita è un'autostrada ma di certo la mia ruota non la fan girare gli altri buongiorno a tutti quanti a questa banda di curiosi la fortuna bacia i belli poi abbraccia quelli audaci tanto vivi respirando solo l'aria che c'è intorno tutti siamo qui a fare il nostro tempo a scolpire ogni frammento siamo qui a fare il nostro tempo con la pioggia il sole e il vento Andrà! Alberto io me li sento da casa che stanno cacciando insieme a noi eh come se fossimo tutti insieme eh da qua e da casa siamo qui a fare il nostro tempo a scolpire ogni frammento siamo qui a fare il nostro tempo con la pioggia il sole e il vento Siamo qui a fare il nostro tempo oh c'è una telefonata non me l'aspettavo ragazzi questa sera ci siamo stati inondando di telefonate e foto siete formidabili ma quanti siamo insieme questa sera? pronto? pronto ciao come ti chiami? sono Tobruk da Mirandola Tobruk da Mirandola applauso allora possiamo fare un altro sì perché voi dovete sapere che lui è un fan accanito di Mo Pensa Te ma in realtà con gli anni lui è diventato un autore della mia trasmissione perché mi manda pacchi di quesiti da proporre alla gente io tante volte attingo da quello che mi manda lui tra l'altro una sera in provincia di Bologna bevi l'acqua si è presentato con un plico enorme durante una cena mia di Marco Ligabue prima di uno spettacolo e quindi l'ha conosciuto anche Marco Ligabue è vero è vero come stai Tobruk? va bene bene tutto bene quanti siete a casa? siamo in cinque bravi chi c'è? chi c'è? raccontaci c'è la moglie e la figlia di chi? è mia è mia e poi chi sono gli altri due? c'è una coppia? ascolta volevo chiederti una cortesia vai mi fate un pezzo della canzone più di alta dal ministro Brunetta e qual è? io vagabondo io vagabondo io vagabondo io vagabondo c'è la scuola Brunetta sarà i vattussi vabbè forse ce l'hanno in macchina non lo so potrebbe essere Tobruk ti mandiamo un grande abbraccio a tutti gli amici di Mirandolo in provincia di Modena che ne abbiamo tanti e seguici fino alla fine festeggiamo insieme cioè fai con noi il countdown a mezzanotte? si ce la farò ce la farò sei il numero uno numero uno allora la facciamo? dai parla te la telefonata parla Marco Ligabue stasera no no dicevo ricevi la telefonata dicevo la telefonata pronto? chi è? pronto? mi sentite? si ciao chi sei? buon fine un prosto buon anno nuovo sono Bernardo dalla Germania ciao Bernardo Alberto se vai a Castellammare del Golfo si vuoi andare a vedere solo la buon anima di papà ha fatto il concerto grande hai capito? si e poi se mi telefonate quando sono a casa vi do il numero di telefono mio figlio che c'è ancora il biglietto conservato degli S dei di Pop degli Riot ma stai cercando di vedere il tuo figlio fammi capire no lui sta dicendo che secondo me presto tardi sarebbe tanto contento che noi tre andassimo a fare uno spettacolo in Germania lì vicino a casa sua anche a me piacerebbe tantissimo soprattutto per la dirra è da due anni che non ci fanno più concerti ma adesso quando ritornerà il momento Bernardo Bernardo posso chiederti se mi puoi fare un saluto mi puoi salutare un saluto l'ho fatto già no mi puoi l'ha fatto di Chuck Berry l'ha fatto pure Gimèzi Chuck Berry hai capito Giove PQ Bernardo ascolta l'Igabue un attimo no io ti voglio chiedere se potevi salutarmi la dieta c'è se puoi dire che ci vediamo poi dopo le feste con calma senti qua se volete andare in Sicilia vai a vedere dove suo papà ha fatto il concerto Bernardo noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio ma di quelli formato maxi made in Italy per dieci volte con uno dei miei figli e tutto grande anche un'altra cosa mio figlio Nicola si a San Pietroburgo suona tutte le fine settimane quando finisce sta pandemia nel locale più lussuoso italiano il locale si chiama Vino di Vino Vino di Vino allora chiamaci pure noi che noi di vino ne abbiamo ma finché vuoi e ne sappiamo anche è importante con mio figlio che lui sarà l'agenda di commercio ottimo allora noi ti abbracciamo e ti mandiamo un grande abbraccio grazie perché dalla Germania stai seguendo l'ultimo dell'anno insieme con noi a Motivi Naturali su TRC grazie grazie sono familiari bravo hai ragione ma volevo dire una cosa lui ha un figlio che fa l'agente di commercio esatto qui volevo salutare anche il mio di agente che è Ferdinando ciao lui è l'agente di Alberto Mertoli esatto c'era un altro di commercio vero Corsi tu bist ein gaitista tu bist kein gaitista ma stanno arrivando degli auguri da degli amici sta arrivando di tutto ragazzi ma di nostri amici musicisti sì di tutto prima però vi voglio dire una cosa vi spieghiamo come faremo a casa noi voi ci seguirete come noi attenzione mancano tre minuti a metà notte rimettete gli oraggi preparati i consumanti come noi ma basta allora 10 9 che quello 9 oggi per ragioni anche commerciali chi sono i nostri partner per quanto riguarda il brindisi rivolgiamo un grande applauso grandissimo applauso agli amici delle cantine riunite e cinque stasera sono con noi nella versione questo caso Pigno Lettorighi e 800 nero albineacanali perché loro ovviamente hanno proposto chiaramente noi insomma siamo ce n'è uno metà strada Sassuolo uno Modena quindi a posto e uno con Reggio perciò Reggio perciò le referenze sono di tutti ma posso dire che noi siamo fortunati bravo hai ragione perché noi abbiamo avuto la fornitura per Capodanno ed è qua fuori dal portone al fresco è vero e quindi adesso oltre in una pubblicità o durante il counter noi dobbiamo andarci a fare un brindisi adesso con tutto questo vileo e lo faremo anche in diretta con i nostri amici delle cantine mi dispiace sconfessarvi ma io tu hai già aperto un pistone mi sono fatto fare una flebo e voi non lo avete non è vero allora guarda dico questo ci sono delle canzoni per Capodanno ci sono delle canzoni per tutto l'anno Andrea Scura ci hanno fatto una richiesta prima no qual'era io vagabondo se te la ricorre se volete la facciamo altrimenti io proporrei Marco se sei d'accordo a quest'ora ma dai una richiesta una volta che la sappiamo una volta che la sappiamo allora andiamo via di buon dolore non è che allora diciamo non è che siamo qua richiesti però una volta che ci viene chiesto un pezzo di un grande nostro amico ma metti che ci chiami alla fine della canzone che ci mandi un augurio Beppe Carletti ma metti se succedesse questa cosa prego prego andiamo grazie possiamo fare la rock Beppe ce la perdoni ma speriamo perché se no io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età poi una notte di settembre mi svegliai il vento sulla pelle sul mio corpo il chiarore delle stelle chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro soldi in tasca non do ma lassù mi è rimasto Dio sì la strada è ancora là un deserto mi sembrava la città ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età poi una notte di settembre me ne andai il fuoco di un cammino non è non è caldo come il sole del mattino chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro soldi in tasca non do ma lassù mi è rimasto io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro soldi in tasca non le ho ma lassù mi è rimasto Dio bravissimi mamma mia tutto in diretta però volevo dire una cosa alla regia mi ha detto la regia che ma metti caso che tu fai in diretta io vagabondo e a un certo punto ti arriva un messaggio di questo signore qua ma metti che succede vediamo ma chi lo sa ciao a tutti io sono Beppe Carletti dei nomadi e insieme a noi nomadi vi facciamo tanti auguri tanti auguramenti di un anno meraviglioso che vi possa portare tutte le cose belle che desiderate un grande abbaraccio Beppe Carletti e tutti i nomadi ciao eh Beppe grande Beppe number one allora vedo che vi state mettendo d'accordo perché c'è una sorpresa che sta per arrivare però dobbiamo fare un po' allora funziona così avete capito voi mandate le vostre foto noi le mandiamo perché sono veramente tantissime voi speditele fate una foto adesso siamo in diretta sono le 22.19 bello 9 dai dai sei registrato ma no ma vedi ma che registrato siamo in diretta vedi che ci sono un sacco di 19 ma questo è Gianni Centonze è Gianni Centonze è il nostro amico da Salento ciao Gianni io sono molto contento addirittura questo è il nostro amico Andrea Borghi questo è il nostro amico sì sì no dicevo bellissime queste foto qua voi continuate a mandarci quindi c'è qualcuno all'aperto noi eh beh qualcuno magari insomma che va fuori fa una foto fa una foto con la mascherina permesso premio FFP2 poi dopo torna a casa può esserci allora avete capito come funziona il numero per mandare i vostri whatsapp con le foto vedete che noi le facciamo vedere tutte voi mandatele che noi le facciamo vedere è il 3703195195 e citofonare Bertoli adesso pronto? pronto? chi è? ciao ragazzi ciao chi sei? buon anno buon anno buon anno buon Daniele ciao Daniele ciao 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 volevo salutarvi sì e fare i complimenti perché ho prestato veramente i nomadi e i musicisti molto talentuosi veramente ho prestato veramente tanto buon anno ma grazie e soprattutto la capelliatura del signor Barbie grazie ti ringrazio siamo gentili Daniele da dove chiami? è acuto è abbastanza acuto se no è aculeo da dove chiami? io chiamo da Villa Minosso Villa Minosso quindi Reggio Emilia? sì sì esatto chiamo sono un po' fuori però sai che sai che io e Luciano venivamo in vacanza? wow da Correggio Villa Minosso nell'81-82 venivamo a Villa Minosso in vacanza anche io e Berto ne abbiamo fatto un weekend ad Avellino ma non è che ci manchiamo però dopo qualche anno sono venuti un po' più sotto a Toano tu sai dove abbiamo cambiato? sono andati a Toano senti in quanti siete a casa? allora qua in casa siamo in due o tre vabbè io conterei in due o in tre cosa vuoi dire? io la mia ragazza o un mio amico grandi c'è la leve lì? eh come? c'è la leve lì? eh no purtroppo anche mia anche mia però però andremo più su e tu perché la cercheremo e poi scenderemo ok senti ultima domanda poi ti salutiamo il fatto che tu sia al telefono e la tua ragazza insieme al tuo amico vuol dire qualcosa? eh no no vabbè saluta la pietra di bisbato ok allora facciamo così quando andiamo allora facciamo così quando andiamo una canzone da fare trenino sappiamo benissimo di Simone comunque Andrea un ragazzo che apprezza bravo cioè la musica dal vivo oramai è quella lì è chiaro che dopo a me ha messo cioè l'appunto finale però i capelli di Andrea però i capelli di Andrea però i capelli di Andrea si vede che è uno che segue la televisione pronto l'hanno buttato sul telefono così pronto pronto il villaminostro scomparsa scomparsa maria parla chi è? pronto ciao sei in diretta sei proprio tu da dove chiami? pronto buonasera ciao io sono Cimni di Cavezzo Cavezzo provincia di Modena grande quanti siete a casa? da sola ma come? una single non ho capito lei si chiama Cimni no Cimni a Strandy Mandy o no? si come? a Strandy Mandy o Cimni e io o Cino aspetta io voglio sapere com'è il capo Cimni com'è il capodanno da single con noi teniamo compagnia noi raccontami raccontami il tuo capodanno da single cosa fai a capodanno? niente vabbè guardi la tv vabbè certo sempre ma allora noi siamo onorati di poterti tenere compagnia possiamo dire che abbiamo fatto il capodanno con te noi quattro zero questo è bellissimo questo mi fa piacere allora senti io vorrei fare un regalo e utilizzerei il mio amico Alberto Bertoli e tu sai che Alberto e Pierangelo hanno delle canzoni bellissime nella loro bottega di famiglia lo sai vero? sì allora io ti dico una cosa io sono francese ah francese tu sei francese? sì allora parliamo in francese c'è capodanno all together tutti insieme sì no vabbè se ne pare chance di sì esatto no però noi siamo l'unica cosa che vi accumula è lo champagne si è un certo savoir faire però la prossima canzone non è un francese ma è un italiano non è un francese ma è un italiano il suo è un francese è un italiano cini 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 ha mai visto una trasmissione così in francia? spero bene di no no infatti e qua ci sono delle risposte e qua ci sono tutte risposte no 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 sì no mi dicono che invece adesso è il momento di una canzone di Bertoli ed è completamente dedicata a te preparati che facciamo la canzone per la nostra amica prima la telefonata al volo Cino pronto? pronto? ciao come ti chiami? ciao sono Maria I e volevo dire che siete tutte e tre molto belli grazie e vi seguo tantissimo grazie io sto a Reggio Emilia però mo sto qua eh perché io sono molisana mo sto qua ma di dove? però mi chiami la domanda no? ma di dove? Andrea 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 sto qua no ma dove? Molise Andrea ma eh il Duomo di Milano che tiene incompaccato si te l'ha fatto? eh ci stanno ore di gel e lacca per fare il Duomo di Milano a Modena tu capisci che sta difficile? ah ci ho capito ci ho capito eh so senti ma secondo me è difficile capire il Duomo di Milano da una che viene da Campo Basso esatto ma tu vieni da Campo Basso? eh da Provincio Larina Larina allora guarda anche per te la prossima canzone arriverà un vento mi auguro di fortuna incredibile perché diciamocela tutta in tutto questo mondo veramente brutto che ci circonda eppure ti posso dire che il vento soffre ancora lo sapevi? eh io ci credo sì allora noi ti mandiamo un grande bacio un grande abbraccio a motivi familiari e dedicata a tutti c'è Alberto Bertoli che fa qualcosa di storico che riguarda la bottega di famiglia scusa sei molisana? sì lo conosci un artista molisano? Lino no me ne vado come si chiama? Lino Rufo 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 no ma in c'è da 63 anni era un sondaggio ma infatti c'è la domanda abbiamo una fantastica bravo finito abbiamo una bellissima canzone Alberto Bertoli tutti in diretta e tutta dal vivo Alberto Bertoli e l'acqua si riempie di schiuma il cielo di fumi la chimica lepra distrugge la vita nei fiumi uccelli che volano a stento malati di morte il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte un'isola intera ha trovato nel mare una tomba il falso progresso ha voluto provare una bomba poi pioggia che toglie la sete alla terra che viva e invece le porta la morte perché radio attiva eppure il vento soffia ancora sfruzza l'acqua alle navi sulla brora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori li bacia e non li coglie e un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario e presto la chiave è nascosta di nuovi segreti così copriranno di fango persino i pianeti vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli i crimini contro la vita li chiamano errori eppure il vento soffia ancora sfruzza l'acqua alle navi sulla brora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori li bacia e non li coglie eppure sfiora le campagne accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli corre a gara in volo con gli uccelli eppure il vento soffia ancora questa sera in diretta a motivi familiari Alberto Bertoli allora se siete d'accordo facciamo così facciamo cambiare facciamo fare il pistola ecco bravo io mi devo cambiare la mano Andrea però c'ho tanti amici che mi hanno detto che mi stavano mandando gli auguri ah se ce n'è uno? con tutte le donne che c'è se no li mandiamo dopo prima della pubblicità c'è un nostro carissimo amico molto molto famoso che già fatto gli auguri vorrebbe la linea vediamo prima proprio della pubblicità vediamo ciao Andrea ciao Alberto ciao Marco buon anno a voi e a tutti gli amici di motivi familiari da questa notte è calda si dicono calda infatti è calda io sono in maglietta praticamente ciao allora abbiamo visto la rovescio ma era Stefano Scorsi che noi ringraziamo magari lo ripristiniamo il filmato perché era sotto sopra ma lui era completamente a posto diciamo no no secondo me è stato l'ultimo dell'anno a fare così tu dici che si gira Andrea vado a cambiare maglietta allora diamo il tempo state seduti con posti che si parte i campioni salutiamo questa maglietta salutiamo per l'ultima volta dell'anno è l'ultima volta dell'anno che è venuto questa maglietta per l'ultima volta in questo Pazzamuglio Generale siete in centinaia quasi migliaia che ci state mandando foto voi continuate a mandarle al 3703195195 perché noi adesso a Raffica le mandiamo anche durante le canzoni facciamo vedere tutto quello che ci mandate specialmente quelle che sono le foto dei vostri cenoni di Capodanno c'è una breve pausa poi ritorniamo qui motivi familiari in diretta adesso facciamo andare a cambiare ovviamente il buon Ligabue che è pronto si va a cambiare e allora di nuovo in diretta sono le 22.35 quanto manca quindi del countdown? manca tipo meno di un'ora e mezza immagino manca cambiato la maglietta attenzione mancano tre minuti a mezzanotte vi mettete gli aralotti in tre fatti Alberto Andrea l'avete mai visto la Gioconda con il chiodo? no no stasera ho tirato fuori delle chicche devo dire la verità ma guarda non l'ha mai vista neanche Leonardo e questa è la cosa impressionante allora sentite intanto vi stanno arrivando veramente tantissimi complimenti saluto un po' di gente poi faremo vedere foto allora abbiamo Alberto che di Mirandola ci saluta poi abbiamo Beppe da Modena dobbiamo dare anche dei tanti baci a Mirella che ci sta seguendo da casa ci fa tantissimi auguri grazie per questa bella compagnia in questo caso Fabio poi abbiamo Maria Giuseppina da Parma che ci segue vi sto guardando e provo la stessa emozione di mercoledì che ho partecipato di persona e quindi noi ringraziamo ciao molto gentile arrivano saluti da Castellarano in provincia di Reggio Emilia arrivano saluti da Roma ed è Aurelio che ci sta chiamando che ci sta salutando dobbiamo salutare Remo Edea ma anche tanti auguri da Nonantola che è il posto ovviamente da dove abito io Nonantola in provincia di Modena poi ancora stasera Risotto e la vostra compagnia cosa ne pensate questa è la più bella cosa che possa accadere l'ultimo dell'anno grazie e poi non è niente male questo messaggio che forse è scritto dalla signora Francesi di prima che dice in un anno di merda una fine dell'anno molto bella grazie a voi grazie non è male come cosa allora dobbiamo fare dei ringraziamenti noi abbiamo degli sponsor molto importanti a livello internazionale così come le cantine Reunite Cive dobbiamo anche ringraziare tanto una persona che conosciamo tutti quanti è un nostro amico ed è Francesco Leonardi perché noi abbiamo il grande il grande vantaggio questa sera e ci fregiamo di avere l'acetaia Leonardi di Modena esattamente di Forbigine Magretta di Modena conosciuta e pensata in tutto il mondo e questa sera lui è un nostro grande partner sia con l'aceto balsamico tradizionale di Modena che anche le sue grandissime versioni dell'IGP ma ricordo anche che c'è anche corte Leonardi se avete un grande evento e soprattutto lo volete fare in sicurezza in una cornice meravigliosa vero Marco che è stupenda andate sul sito a Città e Leonardi corte Leonardi perché avete la possibilità di fare un grande evento in un posto meraviglioso noi l'abbiamo fatto quest'estate e anche quest'autunno un paio di eventi è veramente un posto bellissimo c'è una cosa bellissima della Città e Leonardi voi se capitate in zona andateci perché a parte che è meraviglioso il posto poi c'è questo tour che vi fa fare in mezzo a tutti gli aceti di tutte le età che ha ed è qualcosa che vi incanta perché a parte che è iper professionale e poi vi spiega come viene su il nostro aceto che ha veramente ci vogliono tanti anni per averlo e quindi è una cosa molto importante molto bella esatto e sorridete a Francesco perché se sorridete a Francesco potrebbe capitare che lui vada dalla botta e quella dei cento anni e l'ha fatto con te tira su una cosina così ti mette tre gocce in un cucchiaino e te lo fa assaggiare il cento anni di Balsami e lì va insieme la luna la cosa bella Andrea che con me ha tirato su la cosa e fa sotto con i cucchiai e io lo guardate e ho detto ma stai scherzando no sotto neanche metti in zona sotto con i cucchiaino è un grande amico e facciamo un grande applauso Francesco Ronardi da città Ronardi per noi è un grande pregio averlo come sposto questa sera grande parte di cui io ne sono anche testimonia e ne sono molto orgoglioso pronto? 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 sono Gialli da Bologna Gialli da Bologna grande guardiere croce coperta siete grandi grazie 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 allora senti ti volevo chiedere una cosa in quanti siete a casa questa sera siamo i quattro chi c'è? io la moglie Vimma Fabio e il cognato Sergio meraviglia senti farai con noi il brindisi? sì 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 mi fa molto piacere sai ma sono bravi vero Bertoli di Liga Bue sono bravissimi siete bravi perché entrati in casa nostra trasmettete un concordo e della spessi e della tezza perché siamo sempre presi da questa vita troppo troppo tesa e voi ci rilassiate proprio veramente senti un gran complice grazie grazie se posso volevo farvi una richiesta di una canzone proviamo del vostro indimenticabile Lucio Dalla qual è? qual è? l'anno che verrà o altrimenti la piazza grande beh allora non lo so adesso facciamo così nel break pubblicitario ci parliamo un attimo ce la studiamo un attimo e te la facciamo dai l'anno che verrà ci stanno perché sai che facciamo tutto in diretta dal vivo non è che tutte le altre trasmissioni fanno questa cosa noi siamo in diretta e loro suonano dal vivo non è semplice perfetto perfetto sì anche un pettettino se no abbiamo una canzone qualsiasi è lungo allora noi noi abbiamo deciso siccome tu ci hai fatto un gran complimento di farvi un grande saluto e vi mandiamo un applauso in diretta qui da motivi familiari la notte di San Silvestro grazie un bel applauso grazie grazie stop allora lui ha detto una cosa mi viene in mente una cosa stop alle telefonate ma adesso facciamo vedere facciamo vedere un po' di foto poi ti voglio chiedere una cosa Marco perché arrivati alla fine dell'anno ma in questo momento tutti dicono caspita sembra quasi la fine del mondo forse ho una richiesta io da farti della tua bottega di famiglia tra te e tuo fratello avete fatto qualcosa che può essere allora vediamo un po' di foto che arrivano poi magari le mandiamo anche durante le cazzo no ragazzi io vi ringrazio questa è una roba tipo welcome crazy anguitta io non riesco no fermi fermi io non riesco a capire se sono Don Johnson di Miami Vice o il mio amico Sandy Martin guarda ti giuro sembri un pochino Andrea Mingardi e un po' Andrea Bardi è bellissimo è una roba hai ragione però non sono niente male neanche così vabbè inutile fatta la dissolvenza che non ci sta fatemi vedere un'altra per cortesia così vi ringrazio guarda sei più bello che mai salutiamo anche chi ci ha mandato una bella fetta di salame c'è chi ha il manual di cintoni non è niente male questa cosa grandissimo lui l'apprezzo molto e allora noi ci chiediamo molto spesso ma con tutto il ma che bello ma lo so state zitto un attimo noi ci chiediamo molto spesso vedendo questi dati questi bollettini sentendo come ha detto il nostro amico di Bologna insomma questa grande tensione che c'è no? però uno magari si chiede scusa ma a che ora allora a questo punto arriva la fine del mondo perché siamo arrivati a un momento che ormai sembra tutto finito invece non è così ragazzi ragazzi non è così però la bottega di famiglia versante Correggio versante Ligabue della premiata ditta Marco e Luciano c'è un pezzo lì dentro che sta proprio in quella famiglia lì che ci racconta un po' tutta una serie di sfumature proprio su questo pezzo e questa serie in diretta qui su TRC e R24 modenindiretta.it in diretta per notte di Capodanno sono pronto a presentarvi un pezzo straordinario in una versione molto particolare della mini band dei cantautori di questa sera perché qualcuno se lo chiede ma nessuno sa a che ora è la fine del mondo che ora è scusa ma che ora è che non lo posso perdere l'ultimo spettacolo fine nel mondo il mondo visione diretta da San Pietro per l'occasione la borsa sale il maronino il ferro imbatte il retto di autogol le liste del giudizio universale saranno trasmesse dai telegiornali retunificate poi sulla pagina 666 prima però sul canale 9 ci sarà il terzo festival del dolore con la finale dei casi umani meno meno umani che mai i puttani ricidiano dentro che la villa niente ciccia niente niente ma tu giri più leggero bruciando le tascorte di preservativi più rintorello l'amore bello se ci sei tu a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo che rete destra sinistra su giù centro fine del mondo con palla in giramento tutti fuori fuori chi è dentro è dentro è fuori tv non sei niente ultimo appello per i merdaioli finitevi la merce che di là non funziona altro girone altro regalo niente caramelle per il leccaculo ok il girone è giusto ok ok a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo che rete è che ora è che rete è che ora è a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo a che ora è la fine del mondo che rete è allora prima di andare in pubblicità a volo stanno arrivando c'è una telefonata stanno arrivando ragazzi siamo a miglia in foto insomma noi cerchiamo di tenervi compagnia ma voi siete veramente tantissimi questa sera pronto ciao ciao come ti chiami mi chiamo lì vengo da un'altra sono sì sono la compagna di caccio di matteo ma io ho capito chi sei per motivi familiari lei è una bambina dico bambina ma so che sei una ragazza che gioca in squadra con mio figlio e lei è fortissima e quindi per motivi familiari vedi che c'è un ritorno sempre a questa cosa ha chiamato e quindi ti facciamo un grande applauso in diretta ma tu sei bravissima a giocare a caccio grazie ah grande ciao ciao tanti auguri in quanti siete a casa questa sera eh in quanti siete a casa questa sera cinque wow allora è record fino adesso non sempre due tre quattro cinque è record senti allora salutameli tutti te ne ricordi per nome come si chiamano sì c'è la mia nonna Luisa c'è il mio nonno Renato la mia mamma Barbara e il mio papà Graziano e allora io sono Edda sì ma questa è un'altra che abita di fianco nel palazzo allora senti Linne anche io la zia che si chiama Edda però vedi noi ti mandiamo un grande applauso e un grande saluto e un grande augurio di buon anno a tutti voi e grazie per seguirci ciao questa sera grazie per essere qui ciao 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 c'è la bomba ma non ci credo io sono la Luciana non ci credo ma ci dicono che ci chiede la linea lui chi è lui ragazzi lui no per me è un mito no lui ragazzi è un mito no voi non potete capire lui c'ha le cose in anteprima noi siamo all'oscuro delle cose facciamo io all'oscuro noi siamo all'oscuro nel senso 70 euro e te la faccio fare questo va dentro gratis perché secondo me lui è un mito guardate chi ci chiede la linea una montagna di auguri una svalangata di auguri una camionata di auguri di buon anno da Giuseppe Giacobassi per tutta TRC per Andrea per Alberto e per Marco ragazzi buon anno davvero a tutti quanti ciao grazie Giuseppe Giacobassi ma che regalo grazie Giuseppe allora su una serie di motivi che non vi so spiegare è il momento della pubblicità ma la manda Bertoli e quindi adesso aspetto un attimo perché si prepara che sono la Patrizia la Patrizia guardate per l'ultima volta la gioconda col chiodo su queste immagini della gioconda col chiodo questa non è la maglietta di Bertoli no volevo la gioconda solo dirlo primo piano Bertoli vi svelo un segreto manda a noi la pubblicità prego quella è la camera e ora pubblicità bravissimo bravissimo motivi famigliari motivi famigliari motivi famigliari motivi famigliari eccoci qua di nuove cammiretta 22.52 vi svelo un segreto fra un minuto 22.53 sono insieme ad Alberto Bertoli e a Marco Nigabue che ha fatto un cambio d'abito oddio che è quella roba lì ma cos'è sta roba qua mi hanno fatto una segletta io mi ricordo che c'era un album degli off film si chiamava It's Night on the Ombre e aveva aglio comprativo bravo è vero è vero bravo medico adesso magari cerchiamo anche qualche canzone allora fermi tutti perché attenzione mancano tre minuti a metanotte manca più di un'ora ragazzi manca un'ora e sette minuti vicina fermi 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 allora no aspetta a casa avete messo in fresco le spumanze si ma avranno tutti ma non è vero ma non è vero allora fermi per motivi familiari dicono che c'è un collegamento da correggio no si si in un corridoio di una casa di correggio allora ragazzi è così mi dico alla regina mi tocca questa roba io non lo so secondo me attenzione perché c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola anzi anzi forse viene fatto in padella con delle erbette ma non sono sicuro vediamo chi ci chiede la linea dal corridoio di una casa di correggio ciao Andrea ciao Alberto ciao Marco volevo farvi gli auguri di buon anno e spero che vi sia piaciuto il mio erbazzone siete mi guardo sempre siete fortissimi grazie a tutti grazie a tutti mamma rina allora posso dire com'è andata a finire la storia dell'erbazzone com'è andata a finire è andata a finire cioè mettiamolo così è andato a finire è andato a finire allora voi dovete sapere guarda vi sviluppo un segreto velocemente così i miei due soci si preparano su una bella canzone che piace a mamma rina ma so che piace tanto anche a voi questa sera ognuno di noi abbiamo fatto per motivi familiari ognuno di noi ha portato qualcosa da mangiare per stare insieme come una famiglia qui a TRC con chi lavora l'ultimo dell'anno e magari non è insieme alla propria famiglia e in questo caso Marco ha fatto fare due erbazzoni da mamma rina e devo dire la verità neanche l'asso di picche di Silvan spariva così velocemente con le buone che roba cabanella mamma rina però devo dire due cose c'è una garanzia no hai visto come shh no ma però però la stessa velocità li hanno avuti i tortelli non che vedo più non che vedo più di Bruna di Bruna Patacini mamma dia buonissimo io adoro i tortelli col sapore bravo e devo dire una cosa lo dico pubblicamente in diretta raramente Bruna io ho mangiato dei tortelli così perché non solo lì dentro si sente i territori sono buoni ma si sente un cuore grande che li ha preparati ma non mi è venuta la colina in bolla ma ci abbiamo già di tutti in dovaio allora proprio per questo noi siamo una grande regione c'è l'Emilia c'è la Romagna molta gente dice che siamo profondamente diversi in realtà è una regione che come ha detto il presidente Bonacini tiene veramente alto quello che è il livello di uno spirito che raramente si può trovare in giro ed è proprio per questo che da quello che è un'altra grande bottega di famiglia di secondo di Raul di Mirko l'omaggio arriva proprio qua mamma marina e mamma bruna sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato non ti potrò scordare casetta mia in questa notte stellata la mia serenata accanto per te romagna mia romagna in fiore tu sei la stella tu sei l'amore quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare romagna 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 mia lontana da te non si può stare romagna romagna mia lontana da te lontana da te non si può stare romagna 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 no fermo tutto rimettete quella foto ma voi no 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 ma cosa c'entra ma non lo so non lo so per migliorare la qualità dell'audio si consultate il sito si www.ilfonicopelato.com altrimenti citofonare brandoli hai ragione allora dunque attenzione volevo dire una cosa scusami un attimo allora volevo salutare Mirko che è da un'altra parte su un'altra parte un'altra televisione un'altra tv esatto e volevo dirvi che mi fa piacere che questo anno finisca perché da una parte si lascia indietro ovviamente un pezzo di cuore ma dall'altra si porta dietro l'eredità che tutti noi ci portiamo dietro io, Marco e tutti quelli che eh comunque sono nella nostra strada ma questo non deve farlo intrestire ma soprattutto devi fargli venire voglia di tornare sul palco e cantare tantissimo queste bellissime canzoni che hanno fatto innamorare tutta l'arriera Adriatica bravo Alberto bravo è vero è vero ah allora abbiamo un saluto anche direttamente da Remo Morini del Sassuolo Calcio grande Remo ciao Remo che ci sta seguendo qui rivolgiamo un bel applauso a Mirko Bellucci grande sommelier ah su Mirko Bellucci posso dire che ho visto del Laurent Perrier jouet che faceva abbastanza spavento no vabbè tu stai dicendo cose sai che per me io potrei dire rien veut plus allora dobbiamo salutare Cristina da Casal Grande poi addirittura no ragazzi non ci credo ragazzi cioè c'è Mirko Pedretti dell'Archi che ci sta guardando in diretta certo poi ci ha dato una foto infietante ma abbiamo una telefonata pronto pronto ciao come ti chiami eh ciao come ti chiami io mi chiamo Silvio da dove chiami come da dove chiamo non mi riconosci dalla Calabria dalla Calabria ah ma Silvio è lui Fals Club grande Silvio Pedretti sei la mia prigione esatto te lo sapete ciao Silvio come stai ma ti è il cavaliere? no Silvio come stai? ma sai dalla Calabria i punti radio devi abbassare però salutiamo l'amico della Calabria è un grande amico vi voglio un gran bene e torna presto esatto torna presto no ma sai che la cosa incredibile è che tu hai detto una cosa sembra no le mie prigioni no ok perché era Silvio Pellico la cosa incredibile è che io sono andato in fondo e ho scoperto chi divideva la stanza ovviamente la prigione insieme a Silvio Pellico di cognome si chiamava Marroncelli e per una serie di motivi ci credo che a forza di stare lì dentro per una serie di motivi doveva avere due Marroncelli così ma ce l'aveva veramente si andava a vedere su Wikipedia si chiamava così con lì di fiazza pensavo si chiamasse Berlusconi però va bene pronto 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 ciao come ti chiami ciao sono Sara ciao Sara da dove chiami? da Monestirolo Ferrara Ferrara ripeti bene il posto come? ripeti bene il tuo il tuo posto da dove chiami? da Monestirolo Ferrara ok senti ma hai detto ok hai capito qual è? no perché io ho capito chiamote a Monestirolo Monestirolo e io ho detto vabbè no 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 dovrebbe essere una roba del genere senti ma quanti siete a casa? in tre chi c'è? mio marito sì io e mio figlio oh che bello come si chiama come si chiama tuo marito? Michele e tuo figlio? Mattia vuoi salutare Bertoli Ligabue? sì con questo entusiasmo ma no dimmila come è vero che a Ferrara si fa molto buona la salama da sugo? eh eh sì molto molto ma insomma c'è no perché qua non è mai arrivata non è vero perché secondo me te l'ha mandata a me me le hanno promesse in tanti ma a Correggio non è mai arrivata che se gli hanno se hanno promesso a Marco la salama da sugo non è proprio una bella cosa cioè adesso voglio dire però insomma si è vero ha Bertoli in turno io le spedisco una no ah grande ma su spediscila in tv così la mangiamo in tre ma scusa tu ci hai chiamato per una certa ragione giusto? per quale motivo ci hai chiamato? perché mi seguo sempre io e anche il mio suotero Valentino fantastico ha smesso di fare i vestiti e adesso ci guarda in televisione molto bello senti noi ti dobbiamo salutare e ti facciamo gli auguri di buon anno buon anno anche a voi siete dei grandi grazie 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 oh questa la fa Bertoli questa risponde bene pronto la lavora Bertoli questa qua pronto pronto ciao sei in diretta sei in diretta secondo me secondo me era su una bar questo mi sembra il suono della nebbia della barbana si esatto qui potrebbe essere vabbè senti giù la telefonata e facciamo un po' di musica sai perché? no? perché è il momento della festa no? allora io sono un grande amante dei Beatles come voi sapete io vi ho raccontato una storia su Paul McCartney c'è tutta una serie di robe c'è la maglietta che è insomma è anche forte orgogliosamente è giustamente messicana vabbè ragazzi io non so senti ragazzi io allora Andrea se uno mette una maglietta messicana si cioè potrebbe partire con qualcosa di questo tipo qua no ma se la vete è una roba proprio messicana cioè come fanno in Messico ma si quei mega mix che fate voi i cantautori che paravala è la bamba paravala è la bamba se necessita una poca di grazia una poca di grazia pa' mi partia e arriva e arriva e arriva porti in sere porti in sere porti in sere io non soy marinero io non soy marinero sono il capitale soy capitale soy capitale bambà 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 paravala è la bamba paravala è la bamba paravala è la bamba si necessita una poca di grazia una poca de grazia a parli fatti, aia ripa, aia ripa, aia ripa, aia ripa, porti sere, porti sere, porti sere. Io non sei mariniero, io non sei mariniero, sei capitano, sei capitano, sei capitano. Ma come sei capitano ma come sei capitano, sei capitano, sei capitano ma come sei capitano, Seti una centre intermediario ma come sei capitano, sei capitano... Come on, come on, come on, come on, baby, now, come on, I'm working it out, you know you twist little girl, you know you twist so fine, come on, twist a little closer now, and let me know that you're mine. Oh, bravissimi, la sono anche ballanti, oh, ragazzi, guarda, no, fermi, fermi, prima di andare in pubblicità mi danno una notizia, che cosa? Sta arrivando la mezzanotte, no, quanto manca Andrea? No, 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 bloc seemed to me, sta arrivando la mezzanotte. Aspetta, ha anche masquitto Jerry, eh. No, no, sta arrivando. Gli ho chiesto, ma tu cosa fai a Capodanno? E cosa fa lui? Mi staggo dalle foto. E beh, bravo, tu hai ragione. Ragazzi, non ci credete? Ragazzi, non ci credete. Sta arrivando la mezzanotte, guarda. No, ma sul serio, eh. Ciao Marco, ciao Alberto, ciao Andrea, sono Silvia, sono qui perché vi voglio mandare un grandissimo abbraccio e farvi veramente tantissimi auguri, auguri per voi e auguri per tutti gli amici che seguono motivi familiari. Voglio ricordarvi una cosa piccola piccola, proprio per l'anno che sta arrivando. Il Mahatma Gandhi diceva che la vita non è aspettare che passi la tempesta, è imparare a danzare sotto la pioggia ed è esattamente ciò che state facendo voi, divertendo voi stessi e facendo divertire chi vi sta guardando. Perciò auguri di cuore a tutti voi e a tutti gli amici che ci stanno guardando e un grande abbraccio da Silvia a mezzanotte. Buon anno. Io come Silvia, io Silvia, Andrea, Alberto, io Silvia l'ho conosciuta a All Together Now su Canale 5, c'era proprio di fianco nel muro, eravamo in centro, era una voce incredibile, cioè mi ha proprio stupito, ma un conto era vederla sul palco, ma sentirla cantare proprio a mezzo metro da me è veramente stupito. Abbiamo creato anche un bel rapporto, sono contento, addirittura ha citato Gandhi, no? Pensa che è stata la mia prima insegnante di canale. Già, vero? Sì, 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 ha la Labo Musica nel 2003, quindi io la ringrazio tantissimo perché mi hai insegnato un sacco di cose, soprattutto anche a dominare un po' l'emozione quando sei sul palco. È vero, che è una delle cose più importanti che ce la trova. Noi, tra l'altro, vi dirò di più, una sera mi hanno chiamato a presentare un saggio di una scuola di musica e io conoscevo Alberto Bertoli che era allievo di Silvia a mezzanotte, è vero, al teatro comunale a Modena. Comunale? Qual è la barcelletta? Allora Andrea, quanto manca la mezzanotte? No, dammi, dammi un... Mancano 52 minuti. Allora, diciamo a tutti gli amici a casa, controllate che le bottiglie siano in fresco e che il tappo ci sia ancora nelle bottiglie, anche perché adesso abbiamo solo qualche minuto di pulgità, vado a cambiare la maglietta, dopo quella messicana chissà quale arriva, vediamo tra pochi minuti, è qua, motivi familiari, rock and roll. Bravo, bravo, l'Igabu è lui. Come è bravo lui. Motivi, motivi, motivi familiari, mo, 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 motivi familiari. E allora ci siamo attenzione di nuovo in diretta, sono le 23.12, stiamo andando alla grande, con me un rinnovato nel look Marco Ligabue e un sempreverde a teatro, Bertoli. No, eh, questo facciamo l'anno che se ne va. Cioè, questo qua lo dedichiamo a un po' le cose bruttine che sono capitate quest'anno, eh? Bravo, bravo, bravo. Con sorriso, ma gli facciamo questo... Netra caionetta. Hai ragione. No, se stai... Ci hanno mai mannato? Eh, esatto. Allora, dobbiamo salutare... Bertoli, mo so di... Vabbè, che è ancora a parlare, aspetta un attimo. Allora, dobbiamo salutare una valanga di gente, noi vi ringraziamo che siete in... Ciao per essere qui. La grammatica la rivedrei. Però, però, noi dobbiamo ringraziare, ragazzi, ve lo sto dicendo seriamente, le migliaia di persone che ci stanno mandando auguri, saluti, la loro testimonianza avanti al televisore. Questo per noi è bellissimo, specialmente in un periodo così, dove noi cerchiamo, io, Alberto e Marco, con tutti i ragazzi della regia TRC, di darci dentro per farvi passare... Ti ringrazio, Andrea, sei molto gentile. Ma no, ma è perché, insomma, è anche un po' per noi. Allora, Simone, Roberta, Cristina e Fernando, che poi magari li saluti in persona. Dobbiamo salutare Roberta, poi ancora Andrea da Rimini, buon anno anche a voi. Allora, ciao Andrea. Siete una molla carica atomica. Andrea, Marco e Alberto, Andrea da Bologna. Poi ancora, attenzione, Maurizio, Giada e Giussi, ma ce ne sono tantissimi. Vi sto raguardando, sono di Verona, ospiti da questa amica di Modena. Auguri a voi, grazie. E poi ancora, la musica bellissima e voi fantastici. Giona non ha resistito e fa la nanna. Buon anno a tutti da Biba, More e Giona. Perché? Perché i nomi normali erano finiti. Ecco, purtroppo non abbiamo capito niente. Non neanche io, dire la verità. Ma! Però, devo dire una cosa, è una cosa che ho messo nei vostri messaggi, questo è tutta su Alberto Bertoli, perché... Ti ricordi proprio bene, eh? No, basta leggere. Però, devo dire questo, in tanti state facendo le richieste, tante canzoni di Marco, di Luciano, di Pierangelo, di Alberto, credo che questo sia il momento giusto per chiedere ad Alberto di esaudire centinaia di vostre richieste questa sera su una canzone che è un simbolo, che ha scolpito la storia della musica in Italia, ma che ha raccontato, e mai come in questo momento ne ha ragione, un modo complicato di vivere la vita, ma che non è un modo falso. È un modo scomodo, è un modo difficile, ma è un modo di vivere la vita a muso duro. E forse è uno dei pochissimi antidoti che potremmo avere in questo periodo, vero Alberto? Credo di sì, cioè io credo semplicemente che vivere la vita al di là di quello che dicono gli altri, adesso siamo molto portati con i social network a cercare di assomigliare a qualcuno, invece la cosa migliore di tutte è assomigliare a se stessi. E quindi voglio fare questa canzone con Marco, mi piacerebbe farla con lui perché abbiamo fatto questa canzone ormai diversi anni fa in un suo concerto a Roma ed è stata una bellissima esperienza e quindi dato che ce l'ho qua stasera mi pregio del suo fianco per fare questa canzone. E allora alzate il volume, a motivi familiari capodanno c'è a muso duro. E adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani E quelli che rubavano il salario I falsi che si fanno una carriera Con certe prestazioni fuori orario Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria E senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto è aperto nel futuro Ho speso quattro secoli di vita E ho fatto mille viaggi nei deserti Perché volevo dire ciò che penso Volevo andare avanti ad occhi aperti E adesso dovrei fare le canzoni Con i dosaggi esatti degli esperti Magari puoi vestirmi come un fesso Per fare il deficiente nei concerti Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria E senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto è aperto nel futuro Non so se sono stato mai un poeta E non mi importa un cazzo di saperlo Riempirò i bicchieri del mio vino Non so com'è però vi invito a berlo E le masturbazioni cerebrali Le lascio chiamaturo al punto giusto Le mie canzoni voglio raccontarle A chi sa masturbarsi per il gusto Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria E senza spada Con un piede nel passato E lo sguardo dritto è aperto nel futuro E non so se avrò gli amici a farmi il coro O se avrò soltanto volti sconosciuti Canterò le mie canzoni a tutti voi E alla fine della strada Potrò dire che nei giorni ne ho vissuti Mamma mia! Mamma mia che emozione! No ragazzi ma di cosa stiamo parlando? Ma una serata così Siamo inondati da vostre testimonianze D'affetto Tra l'altro devo salutare Anzi lo salutiamo tutti Il nostro presidente della regione Miglia Romagna Stefano Boracini Che mi ha mandato un messaggio In realtà al mio telefono Ed è davanti a televisione Si sta divertendo Come un pazzo tutta la famiglia Quindi lo ringraziamo Grazie Stefano Allora facciamo un po' di saluti Allora sono bravissimi Siete grandi Buon anno Mauri Giada Giusi Direttamente Io so che sto facendo un regalo La regia Da Sozzi Galli Perché adesso arriverà l'effetto Che ci spiegherà Per una serie di motivi Con la voce di Celentano Ma con la F di Daffy Duck Perché appunto questo paese È da quelle parti lì Che è Soglieri In provincia di Modena Ma voi avete già sentito Cioè nelle vicinanze di Sozzi Galli Tantissimi auguri da Maurizio Clelia e Laura Salutiamo anche Gianni e Giovanna Da Camposanto di Modena Ciao Comunque siete tre patacca Auguri dal Giorgio da Mandrio Patacca mi piace Ciao carissimi Che belli che siete Bravissimo Andrea Ti vedrei a Sanremo Ti vedrei a Sanremo che presenti No lo dico Ti vedrei a Sanremo che presenti E i tuoi due amici in gara Sarebbe incredibile Non ci prenderebbero Perché io poi ti farei per loro E sarebbe tutto Allora Buon anno da Donat Caten Facciamo un applauso Donat Caten è un nome d'arte Allora Poi ancora Da Reggio Emilia Massenzatico Andrea Massimo Matteo Cristianenina Francesca Buon anno a tutti Allora Liga Salutami tuo fratello Allora Sul riportare saluti Esatto Non c'è un libro qua Guarda che quasi qua Li potrei scrivere un libro Hai ragione Sui saluti Da riportare Sì ma se viene bene Quasi qua Li fareste una tournée Con un presentatore Poi dovrei salutare una persona Comunque ci dicono Liga e Bertoli Troppo forti dal vivo Altro che Raio Che era le 5 Sì ma anche troppo Fighi Anche Fighi Allora Molto Fighi Tra l'altro Pronto Sì Pronto Ciao 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 ma tu sei giovanissima Come ti chiami? Mi chiamo Giada 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 ma quanti anni hai? Ne ho 10 10 anni Ma con chi sei a casa? Sono con il compagno di mia mamma e mia mamma In questo ordine di antipatia? Cosa? No dico in questo ordine di antipatia? Di simpatia Simpatia scusa Sì Eh non l'ho scordito Non ti preoccupare C'è Andrea Ma come gli parli? Ah ferma tu Posso chiedere una cosa? Vai Parlavamo di regali mercoledì Cosa ti ha regalato Babbo Natale quest'anno? Mi ha regalato un super pen Un super pen? Un? No no comprende Un super pen? Cosa vuol dire? Sì Che cos'è? Ce lo spieghi? È una penna che si colora cera No ma è bellissima È una penna che si colora? Ah Immagino Ma è molto bella Un super pen Immagino Fantastico Ma non ho capito Si chiama Giada? Giada Giada Gianna No Giada 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 Poi c'è Gianna Giada 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 Volevi fare qualche Giada ti do una possibilità incredibile Te la da Alberto e te la da Marco Puoi fare gli auguri di buon anno A quello che in classe con te Che un po' ti piace A quello che in classe con te Nessuno No Ah allora Ulisse è una bellissima persona Bravo Però io sceglierei un altro nome Non ti piace nessuno in classe con te Va bene No Allora io Andrea Barbie Tu va di tuo interesse Giada Si vai Io non conosco canzoni che si chiamano Giada Non so se Alberto Però ne conosco una che inizia sempre È sempre dedicato a una donna Si Che si chiama Inizia per Già Già No inizia per Già Aspetta Già 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 Te la dedichiamo a te va bene Giada ci stai Ti dedicano una canzone in diretta Ci stai? Eh ok Ok Ti mettiamo un grande applauso Saluto a tutti Mua Allora si preparano Pronto 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 Sei in diretta Ciao Come ti chiami? Ciao Pronto Ciao Come ti chiami? Ciao Sono Marco Da Sassuolo Sassuolo Faccio il Capodanno da solo e faccio il Capodanno da solo purtroppo Beh possiamo dire che noi siamo molto orgogliosi di esserti di compagnia per quello che possiamo Come vai Marco fai il Capodanno da solo? Eh beh oh Eh perché è così È così Senti però noi comunque siamo orgogliosi di farti compagnia Grazie Io volevo dedicare una mia canzone Sono un cantautore di Sassuolo Ah una tua canzone Sì A Marco A Sighabue Sì E a Berto Sì E l'accendo solo così Fa così Io mi sono ispirato di Capodanno con un po' Ah la canta Bravo Un accenno veloce eh Mica tutta Certo Vai Passo di qui Chiese da bere un drink E non disse più una parola Neanche una sola Finché non sentì Lui era lì Seduta al bancone Dolce e provocante Diventando vizio Resta un Capri Oh no Grazie Grazie Molto l'Igabue Sì 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 Storia Storia E per motivi familiari Ti mandiamo un grande abbraccio Grazie Grazie Ciao bello Sai cosa mi ricorda? Mi ricordavo una cosa di Luciano Una delle meno famose Sì però Così Certe notti la macchina è calda E dove ti porta lo decide lei Certe notti la strada non conta Che quello che conta è sentire che vai Mi sembrava un po' questa canzone qua Però Allora noi abbiamo da salutare Dov'è qua? Eccola qua Allora Attenzione Fermi tutti Da Imola Da Imola C'è Gianna Che ci saluta E io ho ottenuto appunto Questo Ovviamente questa cosa Perché per una serie di motivi C'era Giada C'è Gianna che ci saluta C'erano un sacco di Gianni e Gianna E so che in qualche modo No ma Andrade c'è un pezzo del Capodanno Ma lo vuoi? Lo vuoi quello del Capodanno? Ok Dai ci sto Ci sto Ci sto Dai facciamolo già Roberto questo è stato insieme Tutti in diretta Tutti in diretta Questo la facciamo in me Tutti in diretta Tutti in diretta Gianna 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 sosteneva Tesi e illusioni Gianna 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 prometteva A pareti e fiumi Gianna Gianna aveva un coccodrillo Ed un dottore Gianna non perdeva neanche un minuto Per fare l'amore Ma la notte la festa è finita E viva la vita La gente si sverse Comincia un mondo Un mondo diverso Ma fatto di sesso E chi vivrà vedrà Gianna 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 non voleva Sofì Maglione Gianna difendeva il suo salario Dall'inflazione Gianna 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 Non credeva canzoni ed ufo Gianna aveva un fiutto eccezionale Per il cardufo Ma la notte la festa è finita E viva la vita La gente si sverse Comincia un mondo Un mondo diverso Ma fatto di sesso E chi vivrà vedrà Insieme Ma la notte la festa è finita E viva la vita La gente si sverse E comincia un mondo Un mondo diverso Ma fatto di sesso E chi vivrà vedrà Ah, 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 ah Ah, ah Ok, allora Siamo pronti Facciamo così Ci sono dei nostri amici Dei nostri amici Una grande famiglia Che tutti conosciamo Sono dei fratelli Che non solo vogliono Mi dicono Farci degli auguri Ma ci regalano Un minuto anche Di performance Dal vivo Direttamente Andiamo in pubblicità Ma quando rientriamo Ci sono altre vostre foto Ma quanto manca La mezzanotte Manca circa Mezz'ora Mezz'ora adesso Mezz'ora adesso Mezz'ora adesso Quando rientriamo Abbiamo delle immagini Esclusive in diretta In diretta Da Bologna Modena E addirittura Mi dicono anche Che il grande Max Gazet Ci ha regalato Trenta secondi Di concerto In questo momento Che ce lo fa vedere Abbiamo delle immagini Esclusive Ci sono dei nostri amici Che è una grande famiglia Insomma sono di Modena E Modena è una grande città Quindi Modena City E loro girano tanto Perciò per una serie di motivi Fanno anche i Ramblers Sono loro Pubblicità Poi rientriamo Con una grande sorpresa Cari Andrea Marco Alberto Vi parliamo i nostri Sentiti auguri A voi A tutti coloro Che vi stanno guardando Auguri di buon anno Che sia davvero Un anno nuovo Un anno di ripartenza Siamo ancora tutti quanti In babagliati Ma vogliamo ancora credere Che torneranno I bei tempi di una volta Buon anno I bei Modena City Ramblers 1, 2, 3, 4 Grazie per la visione Grazie a tutti. E già allora manca veramente poco, meno di mezz'ora alla mezzanotte, sono le 23.36, 50 secondi, ha cambiato la maglietta anche Marco Ligabue, eccolo qua. Invece i perterriti, io e Alberto Bertoli vestiti come dal primo minuto, siamo pronti qui a Motivi Familiari. Allora, vi dobbiamo tanto ringraziare, tantissimo, tanto ringraziare perché si state mandando veramente migliaia, migliaia di messaggi. Ciao, molto gentile. Molto gentile per essere qua e soprattutto un sacco di foto. Allora, a proposito di foto, dai che... Attenzione, mancano tre minuti a mezzanotte. Ma quanto manca? Quanto manca? Ma no, ma mancano... 23 minuti! 22, 23 minuti. Ma che cosa cosa deve stare facendo? Allora, vediamo un po' di foto che ci hanno mandato. Ti sforza? Che bello, guarda qui. Ma questo cos'è? Lo stacchino alla bichessa? No, oppure un tiramissù. Un tiramissù. Vabbè. Poi vediamo ancora, ce n'è un'altra, vediamo... Ecco, questa è perfetta. Pizza e Nusa. Oh ragazzi, qui pizza, birra e noi televisioni. No, beciau. Sì, sì, no, no, qui anche il rutto libero è a caso, ve lo dico. No, 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 no. Poi vediamone un'altra, forza. Eeeh. No, meraviglioso. Quando va a letto il cagnolino, eeeh. Ma compite i due. Ma sì, 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 sì. No, ma chiede i due. Cioè, quello con gli occhiali, no, beh, insomma, si divertono. Una bella copia, grazie per averci. Ma io ti conosco, ti vedo. No, andrei a posto dire che sono contento di vedere così tanti amici che ci stanno guardando. Ma in effetti, devo dire... Cioè, per me è il mio primo capodanno in televisione. Non so se è Alberto, ma a vedere che intanto ci stanno scrivendo, stanno mandando le fronte. In diretta lo è. In diretta lo è. In diretta e tu l'anno scorso l'avevi fatto indifferita con me, Paolo. Indifferita, io l'ho fatto dal morto. Come sono contento di averti visto di persone. Ma cosa succede in Emilia? Allora, bravissimo. Grande assist Graziani che salta di testa su un cross di Pulici. E' incredibile. Noi abbiamo la possibilità di far vedere per adesso. Per esempio, siamo in Emilia Romagna. Siamo a Modena. Stop the music, please. Cosa accadde? Bello qua. Allora, questo qua, vedete, siamo in diretta. Questa è un'esclusiva che abbiamo noi. Ringraziamo Roberto Vacirca. Perché è in diretta in questo momento. Questo è il mapping che c'è sul Duomo di Modena. E vedete che è insolita questa cosa. Però è nella norma perché non vediamo le persone. Ma non ci sono le persone. Insomma, è anche un modo per far vedere come si vive questo stranissimo. Poi tornerà il momento delle piazze piene. Tornerà. Questa è un'installazione che hanno fatto a Modena. Ed è una cosa meravigliosa. Che starà tra l'altro per pochi giorni. Quindi è una cosa che io vi invito ad andare a vedere. Ci sono delle ore. Andate a vedere sul comune di Modena. Perché ci sono degli orari molto prefissati. Ed è una cosa meravigliosa da vedere dal vivo. Allora, in contemporanea, in questo momento, peraltro, al Teatro Comunale di Modena, si sta svolgendo il concerto di Max Gazzè su tutta una serie di situazioni abbastanza impegnative. Perché? Perché in realtà il concerto annunciato era quello di Colapesci di Martino. Poi come è successo purtroppo, tipo anche in Los Locos questa sera per la Rai, un membro dello staff e risultato positivo per una serie di legislazioni non se ne sono sentiti e ovviamente la legge non ha permesso di poter fare lo spettacolo. C'è Max Gazzè e ringraziamo il comune di Modena per averci dato l'esclusiva di poter vedere un pezzettino in questo momento. Penso che dovremmo averlo. Quindi se ce l'abbiamo facciamolo pure vedere. Eccolo qua. Ecco, in questo momento è Max Gazzè al Teatro Modena che è in diretta con noi e con il pubblico presente. Quindi noi ringraziamo il comune di Modena ma anche lo staff di Max Gazzè a cui rivolgiamo un bel applauso. E vedete che in questo momento questo è un'altra finestra che apriamo sul Teatro di Modena. Ecco. I teatri sono gli unici posti che stanno raggendo. Sono molto contento di una cosa che voglio dire la verità. Dal punto di vista del governo ci hanno lasciato un pochino come noi artisti, ci hanno lasciato un pochino secondo me in mutande. E invece quello che voglio dire verso gli amministratori che hanno avuto una mano, veramente un guanto di velluto nei nostri riguardi e sono stati molto bravi a mettere questi artisti qua in condizione comunque di fare il proprio lavoro insieme al loro staff. Questo è molto importante perché si pensa giustamente alla sanità, giustamente alla sicurezza, però c'è anche gente che lavora e va anche salvaguardata quella lì. Ecco, un attimo una parentesi e vi ringrazio tanto. Bravo, hai fatto bene a dirlo. Buoni amministratori. Tra l'altro dico anche un'altra cosa, andiamo nel nostro capoluogo, qui andiamo a Bologna, e abbiamo delle immagini che in qualche modo celebrano la grande, e qui ci vuole un grande applauso, Raffaella Carrà. Vedete come il nostro... cioè, io devo fare complimenti all'emittente di TRC, al direttore Ettore Tazioni, a tutti, a Francesco Galli, a tutti i ragazzi dello staff, perché non è cosa da tutti avere la possibilità di arrivare in un colpo solo, vedere esattamente tutto quello che sta accadendo in giro per la regione, vedete, a far l'amore, eccolo qua. Allora, senti... Tra l'altro, lo sai che Raffaella se la litigano, no? Perché l'Emilia Romagna si attrattino in mezzo, quindi se la litigano tra l'Emilia Romagna e tutti quanti. Qualcuno dice che è romagnola, qualcuno dice che è emigliana, qualcuno dice che è romana. Hanno ragione tutti. Raffa è di tutti quanti noi. Raffa è di tutti quanti noi. Tra l'altro ricordo il giorno che abbiamo appreso della sua morte, eravamo in torneio e Marco, e ci siamo accorti che veramente mancò qualcosa nella nostra regione. Poi arriviamo in un posto e c'era proprio un vuoto e c'era un'aria che... Ma sai che mamma marina da casa ci è rimasta malissimo? Adesso ci abbiamo ancora preso una foto di Raffaella Carrà, che non c'è mai stato in casa nostra. È vero, è vero. Da quel giorno insomma... Allora attenzione, perché c'è Daniela che ci dice, senti ma ci fate anche ballare, noi che siamo in casa non possiamo andare a ballare. E poi ancora un augurio a te Andrea Ligabue, insieme a Bertoli, buono 2022, pieno di successi. Per favore una grande canzone, salutiamo Bruno da Novellara, buon anno a tutti da Robby e Marco di Sassuolo. Sarebbe bello anche festeggiare. Ci chiedono anche, salutiamo, con una canzone di Marco Baroni. Sicuro Alberto è sul pezzo, ciao auguri ancora. Abbiamo una telefonata, poi vi facciamo ballare, ok? Ok, vi facciamo ballare. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Valerio, ho la voce un po' affona. Non ti preoccupare, ho la voce un po' affona. Sì, da dove chiami? Chiamo da Bologna. Bologna, ok, sei con qualcuno, ti teniamo compagnia a noi? Mi tenete compagnia a voi, insieme ai quattro canzoni. Ok, allora mi auguro che la nostra compagnia sia di livello, insomma riusciamo a farti passare la fine in una maniera piacevole dell'anno, o quantomeno serena. Assolutamente sì, siete fantastici. Grazie. Mi fate stare bene. Allora senti, tu magari, adesso facciamo una cosa, che è un trucchetto che hanno scogitato Marco e Alberto. Tu sei... Ciao a Marco e ciao a Alberto. Ciao, ciao, ciao. Oh, manca poco al Capodanno, mi raccomando, stai collegata con noi che se lo festeggiamo insieme. Quindi andiamo veloce, perché magari adesso ti fai anche un ballettino a casa proprio in solitudine, però te lo puoi fare perché secondo me adesso è il momento del baila che ci fa Marco. Ci stai? Perfetto. Grande, un grande abbraccio, un saluto, buon anno. Voi del baila, Andrea, dai, troppino su. Quando sei Maria Dolores, quando sei che va l'amore, quando sei che va l'amore, quando sei che va il suo vera, quando sei me va l'autore. Quando sei che va il suo vera, quando sei me va il suo vera, quando sei me va il dottore. Baila, 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 bailami, sta rumba da gitana, che io sempre cantare. Però lo sempre cantare, però lo sempre cantare. No, ma le foto mi fanno impazzire, ragazzi, le foto mi fanno impazzire. Oh, però, però, guarda, senti, sono tante richieste. Attenzione, occo. Nella sierra morena, c'è lì, troendo pieno. No, 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 no. Non mi toccare su queste cose, eh. No, ragazzi, su questa roba, veramente, state lontani. Dimi cos'è? No. Che ci fai? Ma piano. Notte in prima dei sensi, notte in di polizia. Certo, qualcuno, te lo sei costato via. No, no, ti scopiare. No, però, posso dire una cosa, statemi lontano perché quando fate così, anzi, state a un metro. Anzi, guarda, ci siamo, siamo distanti. Andrea, c'era anche una canzone. Rotola, rotola, strada facendo rotola. Rotola, rotola. Alberto, vienmi in soccorso. Allora, lo dico perché sono arrivate tipo qualcosa, non sto scherzando. Andrea, ma quanto manca il capodanno? Attenzione, mancano tre minuti a mezzanotte. Allora, dobbiamo andare. Velocissimi, eh, velocissimi. Allora, c'è una canzone di Alberto. Lo dico per gli amici che ci stanno chiamando. Allora, questo è il numero di WhatsApp per le foto che vedete che stanno andando. Vorrei un tavolo per quest'uomo. Ok. Allora, 370-3195-95. Invece quello che vedete in alto a sinistra è quello per le telefonate. Lo dico per quello. Alberto, ci sono giusto due minuti e mezzo per una canzone che è a un metro da me, se ce la fai, altrimenti mi ha dato una pubblicità. Che brutta canzone. Siete due bruttissime persone. Ma non è vero. Sì. Scommodiamo che non ce la fai. No, ce la fai, ce la fai. Che ce la fai. No, ce la fai, ce la fai. Dai. Dai. Voglio fare un gioco, voglio farlo con te, hai un po' di tempo per me, facciamo finta che da domani dica no, sono vietati i baci e gli abbracci per un po'. Facciamo finta che non ci si possa toccare, che la tua pelle sia come un deserto di mare. Facciamo finta dai che se incontri qualcuno gli devi star lontano e non dargli nemmeno la mano. A un metro da me, a un metro da noi, se ti sembrava così facile, adesso dimmi cosa è inutile. Voglio fare un gioco, voglio farlo con te, immaginati un mondo con me. Facciamo finta che non ci si possa più uscire, mi potrai soltanto chiamare. Prova a immaginare le serrande abbassate e le strade vuote entro a lunghe giornate. Adesso dimmi dai se ti manca qualcosa, pensa a una canzone e a un paese intero sopra il balcone. A un metro da me, a un metro da noi, se ti sembrava così facile, adesso dimmi cosa è inutile. Wow, no, non ci credo ragazzi! Allora, guardate questo volto, vi presento per la prima volta in tv al suo esordio, lui è Diego Ligabue. Eccolo! L'uomo della famiglia Ligabue e per motivi familiari tenete il primo piano, sulla faccia di Diego Ligabue mandiamo la pubblicità, così è già un bambino come... Quanto manca in commerciale e vi posso garantire che mancano meno di 10 minuti all'arrivo dell'anno nuovo. Pubblicità e poi siamo pronti a vestitare. Il primo capodanno di Diego! Il primo capodanno di Diego! Eccolo qui, pubblicità e poi ritorniamo qua in diretta! Motivi familiari Motivi familiari Motivi familiari Allora, attenzione! Momento importantissimo! Mancano meno di 6 minuti alla fine di questo 2021. Siamo in diretta con i motivi familiari insieme a... Roberto Vettori! Marco Ligabue! Allora, Andrea, hai visto la maglietta? Ah! Per arrivare alla mezzanotte ho scelto questa! Questo è il miglior augurio che posso fare per il nuovo anno. Visto che siamo al fatto degli auguri e degli regali, questa me la regala! Bravo! Non voglio la tua, per motivi familiari, autografata! Allora, attenzione! Abbiamo fatto melina perché mancano meno di 5 minuti all'arrivo dell'anno nuovo! Insomma, è un po' l'anno che verrà. Abbiamo fatto vedere Bologna, siamo tutti miliano-romagnoni, ma abbiamo capito che ci state seguendo da diversi punti d'Italia, anche d'Europa, come abbiamo avuto a prova con le telefonate. C'è un accenno di una canzone che rimane veramente nel cuore di quello che è un anno che deve arrivare, dove tutto potrebbe cambiare e noi ci auguriamo che cambi assolutamente nel meglio della situazione che stiamo vivendo. E questo è il pezzo che ci avvicina alla fine dell'anno vecchio, all'arrivo dell'anno nuovo, con Alberto Bertoli e Marco Ligabue. Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò, ma quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo gli rimane. Allora, in tre minuti, vi chiediamo, vi chiediamo, vi chiediamo. E che cosa dobbiamo fare, bicchiere, 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 partete bicchiere. Allora noi ci spostiamo, cerchiamo di fare... Allora io voglio sapere anche a casa come vi state organizzando. Immagino come noi, ma noi abbiamo un grande vantaggio. Come abbiamo? Un grande vantaggio perché noi brinderemo ovviamente con un grande vino, un vino regionale nostro. che stiamo parlando ovviamente del Pignoletto Righi in questo caso ringraziamo gli amici con un bel applauso del cantine ma questo è uno di quelli che fa l'ultima volta quando abbiamo girato la promo per l'ultimo dell'anno io ho rischiato di essere come Moshe Dayan non so se lo ricordate Alberto si è piegato perché? perché c'era un copione e lui doveva aprire la bottiglia e mi ha sfiorato e quindi vorrei rifare questa scena vorrei consigliare ad Alberto che è il nostro e lui è molto bravo lui è molto bravo allora aspettiamo un attimo l'unica volta che mi dicono che sono bravo quando apro il vino va bene va bene però allora io stasera ho lavorato sulle magliette perfetto allora occhio ragazzi tutti a casa bicchieri vogliamo tutti i bicchieri sincronizzati allora sta per finire un anno non bello diciamo non bello però insomma noi ci auguriamo che quello che arrivi finalmente sia insomma l'anno che butti via tutte le brutte robe che abbiamo avuto negli ultimi 24 mesi noi vi ringraziamo per adesso io metterei in quattro parole lo metto nel cestino bravo esatto però guarda l'ultima parola quando hai iniziato avevo paura esatto l'ultima parola pensa quello che pensavo inizia a per finire però allora attenzione ci siamo quasi manca pochissimo e manca un minuto Diego è scatenato Diego è scatenato ci sono tutti quanti facciamo gli auguri già da adesso tutti quelli che ci stanno ma io mi ripeto prima attenzione fermi tutti abbiamo preparato il countdown sta partendo la fine dell'anno e parte il guardate eccoli qua 50 ci siamo 50 italiani bravo 45 gli anni di Bertoli siamo quasi amici amici che ci avete seguito fino adesso e allora ce lo meritiamo tutti insieme questo brindle ce lo meritiamo alla grande ce lo meritiamo o no allora lo diciamo perché dopo la mezzanotte noi faremo festa ma abbiamo ancora 25 minuti mezz'ora scaccia da stare insieme perché abbiamo delle sorprese con altri amici che ci sono venuti a trovare e altra musica ok 20 20 19 18 17 16 15 14 30 15 14 15 18 19 19 8 7 6 5 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 ragazzi, auguri a tutti, auguri, auguri, ed è questo il nostro miglior augurio in diretta su TRG, che arriva a tutti gli amici che ci seguono in tutta Italia, Andrea Bardi, Marco Liga 2 e Alberto Berto, ma quanti tappi sono salvati, allora auguri, viva il tappo, viva il tappo, un attimo, un'altra specie di foto, esatto, un bello tutto, un attimo, adesso c'è il regista che sta, eccolo qua, allora, noi vi auguriamo buon anno, finalmente siamo arrivati nel 2022, questo è bene in televisione, bravo, bravo, adesso, ragazzi, a casa mia non mi sembrava, posso dire una cosa, per motivi familiari vi devo fare gli auguri di buon auguri, 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 virtuale, allora, vi lasciamo festeggiare, facciamo gli auguri a tutti quelli che sono qui a lavorare agli studi, un po' di pubblicità, veramente poco, tanto adesso avete le cravate sulla testa, non capite niente nella maniera assoluta, quando ci riprendiamo, ritorniamo qua, abbiamo la pubblicità, ma non abbiamo tutti quei video delle canzoni di Capodanno che facciamo il trenino, infatti, per un po' che facciamo quella roba lì, perché dopo i brindisi, quando fate il trenino manifestate prima che va da casa, ok, come il trenino, come questa cosa, c'è la pubblicità che riteniamo che in proposito, auguri ancora! E allora di nuovo mondo 2022, ci siamo arrivati finalmente con da 5 minuti e mezzo dove i miei due soci hanno fatto un disastro durante la pubblicità, ma d'altronde la festa è festa! La festa è festa! Siamo di nuovo in diretta Andrea! Siamo di nuovo in diretta! Allora vi metto composto! No, volevo comunicartelo prima perché... Allora nel salutare tutti gli amici che ci stanno devo dire la verità, la cosa che mi fa impressione e mi fa molto piacere, che sto vedendo che stanno arrivando foto adesso, cioè del dopo festa! No, no, le voglio vedere! Mandateci le foto! Se avete un po' di foto dalla regia già pronte da farci vedere, fatecele vedere un po' a 4 o 5 e poi le mandiamo sulla canzone perché poi in realtà sarebbe interessante anche capire vedere... Eccoli qua! Vedi? festeggiare... Ah! Esatto! Eccoli qui che vanno! Andiamo andiamo avanti, veloci, e via! Ma due così, perché hanno bevuto tanto devono andare in bagno! Ne ho bevute due! Ah, eccoli qua! I Modena City Rambles che ci hanno fatto un regalo Qua c'è la torta! La torta! Perfetto! Questa prega che si sa mai che finisca l'anno probabilmente questo ha avuto un'ottima idea! Questo letto è d'agnello qua! Sì esatto! Poi chi c'è? No, questo è fantastico! Qua vuole c'è la brisco? Allora, questo è andato! È andato! Però è bellissimo! Eh! Prima tu! Prima telefonata dell'anno! Pronto! Ciao ragazzo! Buon anno! Allora mi fa... Buon anno ascolta! Oh! Buon anno come ti chiami? Oh! Abbassa il prodigione! Allora, allora... Ti chiamo, oddio! Vado in base a acqua bianca! A Berlucchi! Bravo! Allora abbassa il volume del televisore e ci sentiamo solo al telefono! Ok! Oddio! Abbassalo! Abbassalo! Bravo! Sì, ma non da dove è! Abbassa, abbassa! Deve passare il volume! Abbassa! Ok! Oh, a me piace che c'è nel gas qua in questa casa qua! Oh! Hai festeggiato con noi! Volevo salutare... Sì! ... il fratello di... Come si chiama? Di quello di Correzio! Di quello di Correzio! Sì, io lì! Fratello del... Di Liga Bue! Di quello che... Di Liga Bue! Che Liga è Marco! È qua, è qua! Sai perché? Perché? Perché io lo conosco... Ecco! ... quando ti andavo a mangiare che tua madre aveva la trattoria a Regiolo la... la trattoria... Tua madre aveva la trattoria a Regiolo? La fattoria! La fattoria! La fattoria! Diciamo che a Capodanno c'è tanto spumante che oggi sono i brindisi! Sulla fattoria... No ragazzi, sulla fattoria a Regiolo... Ragazzi, grande applauso a questo uomo! La fattoria a Regiolo! Oh, fratello del trattoria a Regiolo! A Bagnolo! E la curva! Due ne aveva! Una a Regiolo e una a Regiolo! No c'è una che si chiamava Rina! Una a Cura in senso russo! Ma dici trattoria da Rina? Trattoria da Rina? Sì! Eh, ma non è mia madre! A volte si chiama Rina, ma non è quella Rina! Però Claudio, sai, il mondo è piccolo! Tanti si chiama Rina! Però apprezzo il tuo modo di far vedere che hai festeggiato con noi l'ultimo dell'anno! Ti dedichiamo alla prossima canzone! Ci stai? Sì! Pronto! 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 Ciao! Buon anno! Pronto! Buon anno! Ciao! Sei in diretta! Sei proprio tu! Pronto! Sì! Ciao! Ma ciao Andrea! Sono Angela da te! La nuova Bracciolini! Grande Angela! Come stai? Auguri! Ciao Marco! Auguri! Ciao! Auguri! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Hai festeggiato con... Andrea ci siamo conosciuti a Carpi! A Carpi! Ah! In uno spettacolo con Marco! Ho capito! Sì! Sì! Mi fa piacere! Senti allora avete festeggiato in Toscana con noi questa sera! Certo! Certo! Dalla Toscana diversamente! Oh guarda! Grande! Angela arriva dalla provincia di Arezzo e si è presentata in una serata Carpi della presentazione così! Era già... Era già in... Era già festeggiata! Brava! Bravo! Era già col minimo alto da ultimo dell'anno! Ma lei è molto simpatica! Allora senti! La prossima canzone è dedicata anche a te e a tutte le persone che sono contette! La canta Bertoli! Pronto! Una dietro l'altra! Bello! Le telefonate dopo... Dopo il brindisi sono molto belle! Pronto! Pronto! C'è il pitch che... Qui non ce la fa questo! Questo è svenuto prima! Questo è svenuto prima! Pronto! Un sopranista! Pronto! Sei in diretta o ce la fai? Sei italiano? Eh sì! Sì! Come ti chiami? Hai un nome? André! Ah ok! Puoi parlare più sciolto rispetto allo stile telescrivente che stai usando? Ok! Punto linea punto! Codice morse! Mayday! Mayday! Roger! Pronto! Ok! Ti metto in def con due e ci sentiamo dopo! È stato bello! Grazie! Buon anno! Qui il ragazzo ha festeggiato... No! Questi ha festeggiato pensi! No! Io voglio far solo delle trasmissioni a Capodanno! No! A mezzanotte in Puglia! Io la metto qua così! No! No! Metti! Allora! Senti! Hai qualcosa di... Dunque! Intanto ti vengono a smicrofonare! Saluto e ringrazio tutti quelli che ci stanno facendo gli auguri adesso! Quindi ovviamente facciamo e ringraziamo con gli auguri! Abbiamo ancora una ventina di minuti scarsa con la trasmissione! Io voglio finire col trenino e te lo dico già adesso! Te lo dico già adesso! Adesso per una canzone di Vettori che si stessa l'anno! Andiamo! Ti la fai? No! Vai! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Io voglio finire col trenino e te lo dico! Quindi vai a scivolare col trenino e te lo dico! It can't stop, I wonder I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down on a sunny day Allora, ho cream and skin water Ho visto due foto Una, la mano del capo Grandissima E l'altra, la torta con scritto mezzanotte C'era anche un bambino veramente fantastico Allora, facciamo così Ultima pausa pubblicitaria Ma insomma, c'è anche un perché Perché abbiamo un finale dove Marco Io posso fare la candela Esatto Te l'ho mai fatta la candela? Come fai la candela? Faccio così, guarda Non so se non ci credo No, no, ti prego No, ma ragazzi Beh, bravo, fantastico ragazzi Sembra Ok, telefonate al numero di sovrimpressione Ci riesci tu? No, bravissimo Alberto non ci riesce neanche Sai che se io faccio una cosa così Vado a finire al ramazzini a carico Immediatamente Io non ce la faccio Va bene Allora Ok, facciamo una E avrei una battuta quest'ora È vero che dopo la mezzanotte Ma non posso farla Dieci No 2 8 7 Stop Smortiamola questa candela Andiamo in pubblicità E ritorniamo con una sorpresa Con le vostre foto Motivi, 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 famigliari Motivi, motivi, famigliari Motivi, 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 famigliari Motivi, motivi, famigliari Ok, allora Non c'è un segreto Mancano meno di 12 mesi Alla fine del 2029 Ok, l'abbiamo perso E' cruciale Ma lui l'abbiamo perso No, no, no Io posso fare una candela Tu hai avuto una standing govation Sulla candela Ok, la gente è rimasta soppi Stiamo aspettando lo smorto No, io però Guarda Qui ci sono Allora, questa sera abbiamo ricevuto Lo dico Migliaia, migliaia Questo è un dato clamoroso Migliaia di messaggi Però volevo salutare Bruno Che ha detto Me con l'ultime d'lana Sun in la Ma anche a liga Cal fa la candela Second me Ha il peso No, ragazzi E' veramente Già Puoi rifarti con una canzone Dalla candela Cioè, rifarti in che senso Fammi capire No Cosa c'è? Marco, saluto il tuo fratello Lo saluto Ciao Allora, guarda Una canzone da primo dell'anno Cosa c'hai di proposito? Così mandiamo Una canzone da questa maglietta Dai, bravo Mandiamo tante foto Dai, facci sentire Grazie a tutti Well, it's one for the morning Two for the show Three to get ready Let go But don't you Step on my blue sweatshirt Well, you can do anything But let it off on my blue sweatshirt Well, you can knock me down Step on my face Stand in my name All over the place Do anything What you do But ooh, ooh, ooh Only lady of my Don't you Step on my blue sweatshirt You can do anything But lady of my blue sweatshirt Blue, blue, blue sweatshirts Blue, blue, blue sweatshirts Blue, blue, blue sweatshirts Blue, blue, blue sweatshirts Well you can do anything But lady of my blue sweatshirts Wow! Wow, mamma mia Non finirei mai Ma, ma, ma Devo dire la verità Permettetemi Al di là di ringraziarvi tutti Che avete collaborato con noi Perché praticamente la trasmissione L'abbiamo fatta anche con tante vostre telefonate Tantissime vostre foto E la cosa che ci impressiona Ma Andrea scusa Ci sono tanti amici che mi stanno scrivendo Ma noi ti abbiamo mandato i saluti Bravo, bravo Allora ne vediamo tre in un colpo Vai, vai Tre in un colpo Guarda chi ci ha salutato Guarda Ciao a tutti gli amici della regione più simpatica d'Italia All'Emilia Romagna Un saluto all'Alberto lì E buon anno Beh, almeno un decente 2022 A tutti voi Ciao Ciao Marco Ciao Alberto Ciao Andrea Volevo augurarvi un buon 2022 Non un buon Un buonissimo 2022 A voi E alla vostra meravigliosa trasmissione Che si chiama Motivi Familiari Quindi a tutte le persone che vedranno Motivi Familiari Ciao Buon anno Abbiamo avuto un po' di problemi con Enrico Diggio ti salutiamo e vediamo di ripristinarlo Grazie Enrico per avercene i mandati Ma ne abbiamo altri due, non so se lo sai Ma spara Si potremmo avere Io non ho capito se poi Gipollini ce l'aveva dato primo o dopo la mezzanotte Tu va di tuoi interessi Guarda, partiamo con lo Stato Sociale e finiamo con un mito assoluto Guarda chi ci fa gli auguri ancora Guarda che roba Ciao Andrea, ciao Alberto, ciao Marco Da me e dallo Stato Sociale tutto Un augurio per un felice anno nuovo a voi e a tutti gli amici di Motivi Familiari Ciao Adesso arriva Ma hai detto che c'è Pizzocchi con un osso di te Ma hai detto che c'è Pizzocchi con un osso di te Ma hai detto che c'è Pizzocchi, Andrea Bardi, Marco Ligabue, Alberto Bertoli I migliori auguri da Giulio Pizzocchi per un felicissimo 2022 So che le prospettive sul momento sembrano così così Però senza voler fare il Paolo Fox Secondo me da aprile e maggio torna tutto bello come prima Quindi da Giulio Pizzocchi Scusate se sono un po' spettinato Ma prima di attrecare l'intermittenza ho preso lo 220 E anche Tatino, il mio cane, ne è rimasto un attimo sconvolto Non si ripiglia, ripigliati Augurissimi, augurissimi a tutti Ciao Grazie, allora dobbiamo ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno sostenuto commercialmente la nostra trasmissione E soprattutto i nostri due main sponsor In primis le cantine Riunite Civ Con ovviamente le loro bollicine E soprattutto grazie perché ci hanno permesso di fare un grande brindisi Ma sono pronto anche a salutare gli amici dell'Asetai Leonardi Che hanno impreziosito con delle grandi eccellenze quello che è stato il nostro capodanno E ringrazio soprattutto ovviamente la nostra truppe, la ringraziamo tutta A partire con un bel applauso da Vincenzo Galeone Carlo Brandoli, Fina Bianco Ciao, molto gentile Frenci Bertacci Abbiamo Robby Macirca Per i collegamenti esterni Reni Marcozzi Maurizia Maragoli Katia Guerzoni Pasquale Magno E ovviamente tutti quanti Danilo Lauria Per Marco, ma sei di Capù è il pittore Esatto, non è il pittore Saluto ovviamente e ringrazio il nostro direttore Ettore Tazioli Ringrazio Francesco Galli, tutta la redazione giornalistica Permettetemi a questo punto di fare gli auguri personali ai miei due amici Alberto Bertoli e Marco Ligabue Alberto Buon anno, ha fatto piacere Andrea Eh, sono qua, sono qua ragazzi Auguri Allora, buon anno Addirittura, no, allora guadagniamo il centro Tutti guadagniamo Allora, parte la seconda festa Parte la seconda festa Allora, noi ci salutiamo così Perché qui parte una festa Ovviamente tutti i tamponati Tutti i tri vaccinati, lo dico Insomma, passate un anno come si può Però con l'ufficio Insomma, che tutto vada come noi vorremmo Come vorremmo? Eh, meglio di quest'anno Esattamente Soprattutto della fine Però vi ringraziamo Stop e musica un attimo Perché noi avevamo molta fiducia Di quest'ultimo dell'anno Ma non eravamo sicuri Con tutte le proposte che c'erano in giro Televisiva Perché so che tanti eravate a casa Che voi eravate pronti a scegliere noi Noi vi abbiamo dato un'alternativa a nostro modo Un'alternativa emiliano-romagnola Genuina Non abbiamo avuto i grandi palchi Le cose Però siete stati veramente Ragazzi, in migliaia Sugli ascolti qua Mi dicono già che superiamo il centinaia di migliaia Quindi è qualcosa di meraviglioso E soprattutto noi vi ringraziamo Perché per motivi familiari Noi abbiamo avuto l'onore Di essere con voi Questo capodanno Grazie Grazie mille Grazie a tutti Buon anno Buon anno È stato un piacere Andrea A tutti E voi Un piacere Anche io A scuola Dimmi i motivi Se cerchi te In una canzone nuova Dimmi i motivi Che ti senti dentro Dimmi gli amici Che ti ha messo al centro Di un sentimento Motivi, motivi, motivi Famigliari Motivi, motivi, motivi Famigliari Motivi, motivi Famigliari